Buonasera e benvenuti a tutti. Sono Mezzetti Guido del Meetup Amici di Beppe Grillo di Forlì. Questa serata è la quarta assemblea pubblica del Movimento in Ascolto, che organizziamo in giro nei diversi quartieri di Forlì, dove diamo la parola ai cittadini e prestiamo attenzione alle segnalazioni e ai suggerimenti, coinvolgendomi tutti su progetti e soluzioni che riguardano il proprio quartiere e la propria città. La democrazia partecipata del Movimento 5 Stelle prevede infatti un uso importante dell'ascolto e del dialogo con la cittadinanza. Questa sera siamo nel vostro quartiere, Malmissole, Poggio, San Giorgio, Barisano e Roncadello, dove è stato segnalato un problema che verrà introdotto dal nostro consigliere Daniele Vergini e poi discusso con voi per cercare di trovare una soluzione attraverso proposte alternative che verranno portate in Consiglio Comunale. Questa sera sono presenti, oltre al sottoscritto che modererà la serata, i due consiglieri del Movimento 5 Stelle, Daniele Virgili e Simone Benini. Ma soprattutto questa sera siete presenti voi, con la vostra partecipazione, i vostri interventi e le vostre domande. Prima di lasciare la parola a Daniele vorrei ringraziare personalmente, a nome di tutto il meetup e del Movimento 5 Stelle, il signor Walter Casadei, che ci ha offerto la possibilità di incontrarci tutti nella sua azienda. Grazie dell'ospettabilità e grazie a tutti voi. Buonasera a tutti, io sono Daniele e assieme a Simone siamo i portavoce qui del Movimento 5 Stelle di Forlì. Innanzitutto un grazie per essere così numerosi qui con noi. E non era scontato perché diciamo che per fare questo evento non è stata una cosa semplice, come potrebbe sembrare, per i motivi che vi vorrei brevemente spiegare in tre minuti. Innanzitutto la petizione sulla Casa della Speranza, che sarà immagino l'argomento principale della serata. Quando è stata presentata questa petizione dalla signora Carla, che intelligentemente l'ha indirizzata al Consiglio Comunale, col fine diciamo di creare un dibattito pubblico sull'argomento, questa petizione è inizialmente stata tenuta nascosta a noi consiglieri. E c'è stata per così dire scippata dal sindaco, che poi l'ha fatta gestire all'assessore Musconi, che è l'assessore al welfare. Questa a nostro parere è stata una cosa molto grave, perché vi voglio spiegare bene come funziona. Le petizioni hanno due strade, si possono indirizzare o al Consiglio Comunale o al sindaco. Nel primo caso, Consiglio Comunale, vuol dire che si svolge un dibattito pubblico e poi si passa ad un voto proprio nel Consiglio Comunale. Mentre nel secondo caso, la petizione viene gestita per così dire privatamente dal sindaco, senza necessariamente un dibattito pubblico. Quindi come immaginerete, a nostro parere è stato grave questo tentativo di occultare la petizione al dibattito pubblico, perché di fatto questo è successo. Non appena l'abbiamo scoperto, abbiamo protestato in maniera molto forte. Abbiamo rilasciato un comunicato stampa, che come avviene solitamente, è stato un po' depotenziato, perché è stato messo un trafiletto in basso sul fatto che la petizione era stata occultata. E invece un bel intervistone a tutta pagina all'assessore Mosconi, che spiegava la bontà del progetto. Diciamo che però non è andata male, perché comunque l'argomento è uscito. È uscito sui media, sui giornali, e da quel momento è stato sempre all'interno del dibattito pubblico nei giorni successivi. Con voci sia pro e con voci anche contro, come è giusto che sia in un pubblico dibattito. Quindi dopo le nostre insistenze, per così dire, hanno avuto effetto, il Comune alla fine ha ceduto e quindi la petizione è stata portata in carico al Consiglio Comunale e a breve si farà una commissione pubblica sulla questione e poi si passerà a un voto nel Consiglio. E questo è un piccolo risultato molto importante. Poi contemporaneamente noi stavamo cercando anche di organizzare questo incontro, ma abbiamo avuto una serie di problemi. Come posto inizialmente dove svolgere questa assemblea, avevamo individuato la sede del quartiere di Barisano, che è sempre qui in via Trentola, un po' oltre, ma l'ufficio partecipazione del Comune inizialmente ci ha chiuso le porte, dicendo che le sale del quartiere non vengono concesse a terzi, ma usate solo ed esclusivamente per l'attività dei quartieri. E qui ho il foglio con la risposta scritta, se qualcuno lo vuole vedere, di come ha risposto l'ufficio dei quartieri. Io ve lo lascio se si può far girare, così vi fate un'idea. Noi ovviamente anche in questo caso abbiamo protestato, siamo 5 Stelle e protestiamo sempre, però abbiamo protestato perché abbiamo detto che se le bollette di queste sedi dei quartieri le pagano i cittadini, è giusto che si dia spazio a un dibattito fra i cittadini. E quindi non è giusto che vengano negate a persone che come noi rappresentano delle forze politiche qui della città. questo le ha fatti di nuovo cedere, ci hanno concesso l'uso della sala. stavamo organizzando la cosa, però dopo poche ore riceviamo una telefonata sempre dall'assessore Mosconi che ci ricorda che la sala di quartiere di Barisano comunque in ogni caso non poteva contenere più di 25 persone. Questo dicono le norme antincendio, le norme di sicurezza sismica e quindi noi non possiamo andare oltre, ci siamo di nuovo arenati. Ma per fortuna, grazie anche alla signora Carla, siamo arrivati finalmente a trovare questo posto e ringrazio veramente l'azienda agricola Casadei per aver messo a disposizione il capannone perché senza di loro non sarebbe veramente stato possibile fare una serata con così tante persone per parlare della questione. Quindi io adesso mi fermo qui, vi ho fatto questa breve introduzione e passo la parola di nuovo al moderatore che vi spiegherà come funziona la serata, come prendiamo la parola eccetera. Allora adesso passerò la parola a Carla Starnini che è la prima firmataria in merito alla Casa della Speranza dopo se qualcuno volesse fare delle domande alza la mano, io vengo e poi dopo ascoltiamo le vostre domande. Ok, la parola a Carla Starnini. Buonasera a tutti, grazie per essere così tanti mi fa piacere che il problema sia sentito così da tante persone. Partiamo dall'incontro del 15 marzo perché effettivamente è in quella circostanza che noi siamo a conoscenza effettivamente del problema prima sapevamo solo per sentito dire per sentito dire il 15 marzo abbiamo l'incontro dove dovrebbe essere una presentazione del progetto e invece a mio avviso è stata un'imposizione del progetto in quanto c'è stato spiegato così molto blanda la situazione com'era in quanto hanno parlato del progetto dell'APAC che si svolge in Brasile questo progetto e qui in Italia sono i primi tentativi che cercano di fare con i carcerati il problema è che loro non ci hanno detto né che tipo di pena devono scontare né quanti sono quella sera non ci hanno detto assolutamente nulla di tutto ciò ci hanno fatto capire soltanto che la recidiva si abbassa e quindi è una cosa giusta fatta bene e meritava di essere portata avanti come progetto l'unica cosa che secondo me non hanno chiarito sino in fondo è che comunque al meeting di Rimini il 23 agosto quando è stato presentato questo progetto che si fa in Brasile hanno anche detto ed è stato riportato sulla stampa che le condizioni indispensabili per aprire una struttura così ci deve essere il coinvolgimento diretto delle comunità locali e dei magistrati allora io mi chiedo perché imporci un progetto senza prima chiedere il parere nostro quella sera davanti alla domanda su 400 abitanti 300 dicono no il responsabile della comunità Papa Giovanni XXIII Meo Barberis ha detto pubblicamente la canonica è della curia e noi andiamo avanti secondo voi questo è un progetto che va portato avanti in questo termine o i parrocchiani hanno diritto di essere a conoscenza del problema per me una volta finito l'incontro non c'è stato niente di chiaro non è stato chiarito niente quindi cos'è successo? è che è successo che io subito nell'incontro mi sono rivolta al comitato perché il comitato non ci ha rappresentato come non ci rappresenta tuttora perché si è dichiarato neutrale da subito e nella sua neutralità ha fatto sì che noi non fossimo a conoscenza di cosa stava accadendo nel nostro paese e alla domanda perché non ci avete informato perché non erano a conoscenza del progetto e dovevano essere gli ideatori a portare avanti e a farlo conoscere al paese dopodiché finito questo incontro noi ci siamo rivolti più volte al comitato abbiamo chiesto se era possibile fare una votazione io direttamente sono andata dalla coordinatore chiedendo un referendum però è chiaro il referendum non si può fare io questo l'ho saputo dopo in un secondo tempo e lui mi ha detto che si pensava di mettere due registri uno in canonica e uno nel circolo per i firmatari solo del no chi non era d'accordo allora io ho detto così non va bene a noi questo non va bene perché prima di tutto ci dicono che in casa loro fanno quello che vogliono alla riunione ci hanno detto così ha detto questa è proprietà della curia e noi andiamo avanti quindi perché dobbiamo andare lì poi solo noi dobbiamo mettere un no poi queste firme che fine fanno dove vanno allora mi sono interessata con ventivogli per fare una raccolta firme ma per essere sicura che arrivasse tutto in comune nelle dovute maniere ci siamo andati a informare ho guardato su internet e insomma alla conclusione l'unica strada era una petizione popolare indirizzata al presidente del consiglio e così siamo partiti sono partita in bicicletta giovedì pomeriggio mi sono messa io in discussione ho detto va provo voglio vedere voglio capire se sono io che la penso solo così oppure se ce ne sono altri da giovedì pomeriggio alle 5 e mezza lunedì mattina 10 aprile ho consegnato in comune ho protocollato 168 firme e 168 firme ho raccolto e vi voglio però ricordare che la petizione continua la raccolta firme continua lì nel tavolo c'è la raccolta firme se volete firmare lo potete fare tranquillamente e c'è stato anche detto tramite i giornali questo perché noi dopo direttamente non abbiamo avuto più contatti né col comitato o quant'altro e c'è stato detto che da dove vengono queste firme quando ho chiesto consiglio ai qui presenti consiglieri che mi hanno detto guarda che una raccolta firme una petizione popolare la puoi prendere ovunque l'importante è che sia nel comune di Forlì oppure che si lavori a Forlì ho detto no io voglio prima solo quelli di Malmissole e quelli che hanno il loculo nel nostro cimitero e infatti i primi firmatari siamo tutti di noi quindi non possono pensare che sono andata a cercare firme da chissia dove il problema lo viviamo noi e siamo noi i firmatari e quindi ho proseguito poi consegnando il 10 aprile sono stata chiamata dall'assessore Mosconi e questo il mercoledì mercoledì pomeriggio e mi chiede in alternativa visto che la petizione che avevo consegnato si trattava di ridiscutere il progetto perché noi non siamo d'accordo per il luogo quello non è il posto giusto per mettere una problematica così grande l'assessore mi chiede le alternative io di alternative dico che visto che la curia è in possesso di tanti poderi se veramente è per opera dell'anno della misericordia come c'è stato presentato subito il 15 marzo ho detto se per questo motivo la chiesa deve dare un segnale non dobbiamo essere sempre noi dare che ci dia un segnale mette a disposizione un suo podere che sono tutti quanti in affitto li ha dati tutti in affitto alla curia prende un podere in accordo col comune al mattino prende i carcerati i detenuti scusate li porta sul posto di lavoro li fa lavorare e alla sera tornano nella struttura a fine pena se vogliono mantenere il posto di lavoro li assumi a tempo indeterminato vengono integrati nel mondo sociale non vanno a compromettere niente non portano via lavoro nessuno anzi si incrementa il lavoro e i posti di lavoro soprattutto e quindi io ho detto per i detenuti questo è un mio pensiero mentre per la struttura qui a Malmissole io di grandi alternative non ne trovo nel senso che è talmente piccola la nostra realtà che al di fuori di un centro diurno per anziani di ragazze madri al di là di questo per poter coinvolgere anche il paese come volontariato così non ne vedo e queste sono state le mie posizioni in comune poi dopo il comune sempre l'assessore chiama noi della firmatari il comitato il parroco e alcuni del comitato pastorale ci chiama per fare questo incontro di nuovo per vedere se c'erano altre alternative insomma per sentire l'opinione di tutti anche la mia posizione è cambiata è cambiata perché ho detto sempre per colpa del comitato che si è dichiarato neutrale ma il 15 marzo dice di essere neutrale ma prima del 15 marzo il comitato aveva parlato con l'assessore perché per due mesi col comitato pastorale e gli altri comitati di quartiere avevano avuto altri incontri ma noi non sapevamo niente di tutto ciò quindi non è vero che il comitato è neutrale se prima del 15 marzo mette a conoscenza dei fatti l'assessore dove l'assessore dice parlerò col sindaco e col questore e poi ne riparliamo non può essere neutrale perché se è neutrale con noi perché non è a conoscenza dei fatti con Mosconi cosa gli ha detto il comitato qualche cosa avrà detto e di conseguenza io ho preso subito la parola nell'incontro con tutti noi presenti perché ho detto oggi come oggi se io ero a conoscenza dei fatti come sono a conoscenza adesso non dicevo ridiscutiamo il progetto dicevo subito non si fa appunto perché è il sistema che è sbagliato è il sistema che è sbagliato perché nel 2015 a Civitella stessa problematica per lo svuota carceri hanno inserito il parroco ha inserito a fine pena anche questi dei detenuti nella canonica l'unica differenza è che in quella circostanza l'assessore il sindaco ha detto noi non eravamo a conoscenza e nessuno ci ha parlato di questo progetto mentre qui a Malmissone ho detto io voi comitato non ci rappresentate perché non ci avete presentato il progetto l'unica differenza è quella solo che a Civitella sono riusciti a fermare tutto a Malmissone non lo so io non sono né sindaco né quant'altro sono solo un operaio in pensione quindi le mie forze hanno ben poco valore però se nel 2015 già la chiesa si è impostata così a Saludicio c'è una struttura che funziona possiamo avere tante opinioni diverse ma c'è una struttura con bestiame terreno caseificio e quindi funziona quando si sono presi hanno tentato di prendere possesso anche di una canonica lì nei pressi i cittadini hanno detto no basta la può andare bene ma la canonica che è nel centro del paese quella la lasciate stare e adesso è ferma è tutto fermo lì a Balmissar le successe la stessa cosa quindi cosa sta a significare questo secondo me sta a significare che la chiesa si impone ci prova se poi trova il comune una giunta che gli dà mancorta va avanti e questo è un dato di fatto perché dove si sono fermati si sono fermati perché il sindaco ha detto no perché a Saludecio il paese si è imposto con forza e ha detto no adesso qui a Balmissole per il momento è sospeso si è azzerato per quanto riguarda il comune il comune ha azzerato tutto chiedendo un prossimo incontro dove ci saranno soltanto le autorità la chiesa non partecipe a questo nuovo incontro non so se questo incontro sarà per convincere noi che non dobbiamo avere paura che sono sicuri che che non c'è da avere timore e tutte queste cose io cosa ci diranno non lo so però ci dovrebbe essere la direttrice del carcere il questore l'assessore e il presidente del consiglio per quanto ne so dovremo aspettare questo questo incontro l'unica cosa che mi lascia perplesso è questo battibecchi continui che noi dobbiamo riscontrarci sui giornali anche oggi ci siamo ritrovati con delle accuse che a mio avviso sono un po' un po' troppo forti da parte di un prete perché se veramente qualcuno dei nostri firmatari ha insultato o ha messo frasi fuori luogo io vorrei che Donnino mi avesse chiamato e mi avesse detto questa persona si è comportata così nei nostri confronti perché altrimenti non ha senso non siamo noi che buttiamo il sassolino nel lago e poi dopo ci tiriamo indietro noi non dobbiamo fare i nomi perché noi non abbiamo accusato nessuno noi abbiamo detto soltanto che volevamo essere informati per tre mesi hanno lavorato senza farsi sapere niente e questo è grave per pensare di mettere una struttura così nella nostra piccola realtà che abbiamo solo quello di centro non è fattibile non è fattibile se non convoggi i parrocchiani quando l'8 maggio a nome dell'assessore ha voluto un incontro solo fra noi del no il comitato di quartiere e il parroco per vedere se c'era un incontro di opinioni positive fra di noi è stato cercare di convincere al loro progetto al che si è azzerato tutto di nuovo perché noi non cambiamo posizione anzi con Donnino ho detto quando ci sono delle lacerazioni così in un piccolo paese in una piccola realtà dove a un saluto uno si rivolge dicendo io saluto solo le persone intelligenti vuol dire che è grave la cosa vuol dire che il parroco non ha fatto il buon pastore nel suo paese secondo me se una persona di 60 anni parla in questo modo poi dopo mi viene a dire individualmente uno può essere come vuole e si comporta come vuole però sta dalla sua parte questa persona sono quelli che dicono che noi forse non siamo dei buoni cristiani noi non ci siamo mai permessi di dire loro che non sono dei bravi cristiani però loro si permettono di dirlo con noi e questo è grave secondo me questo è grave non possiamo continuare sempre ad accettare essere considerati diversi non prendere in considerazione neanche quello che dici perché non non la pensi come loro ci dobbiamo ritrovare così in una piccola realtà figuriamoci allora allora è tutto normale in una Roma in una Milano quando uno bom spara è tutto normale è tutto io dico che questo non è normale e quando ho detto con Donnino quando vai a dividere un paese così che non conosce i parrocchiani ma si frantume il paese vuol dire che il progetto in qualsiasi modo finisca è un progetto che è fallito perché abbiamo fallito noi abbiamo fallito è questo che è grave è questo che loro non vogliono capire il nostro no non è perché abbiamo paura abbiamo paura di tutti abbiamo paura anche della persona accanto se ci insulta non è quello è il principio che è sbagliato solo che non puoi dirlo non puoi dire queste cose perché sei una cattiva cristiana è questo che ci vengono a dire e questo è grave secondo me e c'è una cosa che voglio precisare siccome il comitato è neutrale il comitato è sempre stato neutrale però la Blusur guarda caso chi l'ha mandata uno del comitato del quartiere che fa parte del comitato del quartiere e del comitato pastorale quindi va bene tutto va bene però il comitato è neutrale nella Blusur che viene mandata che noi veniamo a conoscenza proprio che ci sono 15 posti letto di cui 13 per i detenuti e 2 per gli operatori a fine dell'opuscolo c'è scritto la società può e deve coinvolgersi nel recupero dell'uomo che sbaglia la CEC è un'alternativa concreta all'attuale sistema carcerario costoso e inumano inefficiente e degradante ma scusatemi un po' ma se io sono il direttore di un carcere e vado a leggere una cosa così non mi vado a ribellare cosa sto lì a fare loro se non mi sentono in grado se non capiscono che sono in grado di fare il mio lavoro e loro se lo possono permettere di dire così se noi ci permettiamo di dire che non siamo d'accordo a questo progetto per come è stato impostato siamo dei cattivi cristiani questo ci viene detto ho concluso grazie chiedo scusa ma è la prima volta che mi trovo davanti a parlare tanta gente grazie Carla bene siamo nel momento delle domande se volete mazzate la mano avete la possibilità di fare le domande ai nostri consiglieri eventualmente prego innanzitutto buonasera a tutti io sono Franco Ademilio sono del appunto un iscritto del movimento e vorrei fare però subito porvi una considerazione la prima è questa se si parla di un'eventuale accoglienza di detenuti chiamiamoli ordinari occorre una determinazione del magistrato di sorveglianza e le strutture predisposte per lo svolgimento di una breve fine pena devono essere scelte e messe alla base di una convenzione fra il ministero di grazia e giustizia rappresentata dal magistrato di sorveglianza e strutture riconosciute idonee a svolgere quel percorso di recupero educativo di cui si legge in quel depliante in modo molto vago se non c'è tutto questo non c'è trasparenza e c'è un altro aspetto però attenzione che bisogna capire in cosa consista il percorso educativo perché non è che nelle carceri il percorso educativo non esista c'è e ci sono figure professionali predisposte a questo quindi si costruiscono anche carceri nuove in questo paese per cui quell'affermazione che l'alternativa è la comunità educativa esterna allo Stato è una bufala parliamoci chiaro perché lo Stato deve avere il controllo della detenzione del reo e anche se venissero a Malmisso le dovrebbero essere continuamente considerati in stato di libertà vigilata quindi è una semi reclusione più c'è un aspetto che se io sono a fine pena mi mancano sei mesi o mi manca un anno voi pensate che un percorso educativo si possa sviluppare in poco tempo quando ho trascorso altri tre quattro anni in un regime totale di reclusione senza avere questa possibilità di rifarmi una una personalità questa è di fondo una grossa ambiguità quindi noi abbiamo la possibilità ammesso che si sia si stia parlando della possibilità di avere qui dei detenuti ordinari di rivolgerci al prefetto che bene o male è il rappresentante del governo locale e soprattutto di rivolgerci al procuratore della Repubblica di Forlì che deve essere a conoscenza dell'esistenza o no di questi progetti nel territorio che è sottoposto alla sua giurisdizione questo è innegabile quindi questi sono i due personaggi di riferimento perché dico anche questo perché in tutto questo argomentare della curia della parrocchia dell'assessore Mosconi del Sindaco io poi alla fine non ho mai sentito parlare né della procura della Repubblica né del prefetto né del ministro grazie e giustizia né del magistrato di sorveglianza e allora mi nasce un sospetto un sospetto che mi è cominciato a ronzare quando in un documento della regione ho trovato che a Sadurano quasi 15 anni fa si è data vita alla prima comunità per ospitare detenuti reclusi già negli ospedali psichiatrici giudiziari che erano a fine pena e quelli si potevano essere oggetto di un processo educativo e di recupero e qui bisogna chiedirci il fatto che tutto resti in un ambito delle autorità amministrative locali mi fa sospettare che qui possa esserci anche la possibilità che ci siano presto ospiti in una struttura malmissole persone provenienti dal disagio della reclusione psichiatrica quindi provenienti voi sapete che gli ospedali psichiatrici sono stati sciolti adesso ci sono le REMS che sono delle residenze esecutive di insomma di sicurezza e io ho questo sospetto e ho questo sospetto avvalorato proprio dal fatto che si tende a dare spazio più al rilievo dell'amministratore locale che non alla magistratura alla procura della repubblica al rapporto con la prefettura in quel debliante cui accennava la signora Carla c'è un riferimento costante al recupero psichiatrico ora vedete il detenuto spacciatore da scippo i reati minori soprattutto da deretta non ha bisogno di un grande recupero psichiatrico ha bisogno di un inserimento sociale e soprattutto bisognerebbe poi valutare se è italiano o extracomunitario quali sono i suoi rapporti col sistema educativo che noi gli vogliamo proporre perché noi non possiamo imporre dei modelli un modello si può invece sviluppare attorno a un malato di mente che è stato reo per la sua condizione e secondo me c'è questo rischio molto concreto che qui possano giungere diciamo in un regime di semi libertà ma pur sempre vigilata dei reclusi degli ospedali psichiatrici giudiziari ultima cosa gli educatori ora io sono un po' stupito perché se il ministero di grazia e giustizia con tutti i suoi limiti le sue difficoltà economiche ci tiene ad avere dei tecnici di recupero di riabilitazione del detenuto qui sono sufficienti per 13 persone due educatori che sarebbero poi esclusivamente dei volontari e qual è la loro preparazione qual è il fine qual è il loro modello di recupero ci sono altre domande buonasera a tutti io sono un ospite e sono uno che a 19 anni ho cominciato a maneggiare il tema del rinserimento sociale dei detenuti ne ho 64 quindi credo così di poter dire qualche cosa non sono del territorio non sono un politico sono uno che è in pensione e che da dieci anni in maniera ininterrotta adesso frequento due o tre volte la settimana nel carcere ho avuto a casa mia tre o quattro detenuti sono sposato ho due figli naturali ne ho uno che ho raccolto per la strada perché se no sarebbe stato in manicomio tutta la sua vita quindi qualche cosettina non perché sono bravo ma per dire insomma che forse qualche cosettina vi posso dire visto che mi è parso che qui ci sia anzitutto la richiesta di conoscenza per potere poi eventualmente fare un giudizio e intanto il movimento avrebbe potuto se non l'ha fatto confrontarsi con i suoi parlamentari riminesi perché la Giulia Sarti è venuta insieme con un consigliere regionale a visitare le nostre comunità sia di Taverna di Monte Colombo che di San Facondino e quindi l'avete visto? Io mi chiamo Sergio Orsi e chiedo scusa pensavo di averlo detto e quindi questa è diciamo la presentazione all'antefatto allora il discorso è in questi termini qui se si vuole affrontare in termini costruttivi un problema come questo siccome fra l'altro la proposta viene fatta da un soggetto politico bisogna che noi affrontiamo il problema per quel che è la valenza sociale no? di tutto il territorio quindi della nazione allora senza farla troppo lunga noi abbiamo una situazione italiana delle carceri che è la seguente forse qualcuno non è sufficientemente informato ma adesso diamo qualche numero noi avevamo 60.000 detenuti poi c'è stata la legge svuota carceri il famoso condono eccetera eccetera siamo sese 53.000 54.000 detenuti adesso siamo ritornati a 56.000 detenuti quindi stiamo ritornando al punto di prima tutti i giorni si va di bene tutti i giorni che il buon Dio mandi in terra dalle carceri italiane escono mille persone e altre mille entrano questo è il turnover che c'è nelle carceri italiane in barba a tutti quelli che pensano che il sistema carcerario si dia la sicurezza ma questo non perché sono buoni magistrati perché c'è un sistema giudiziario che prevede gli arresti domiciliari misure alternative gente che va a fine pena eccetera eccetera quindi questa è una dinamica normale su 55.000 persone questo è il trend andiamo ai numeri perché siamo sensibili ai numeri no? un detenuto in carcere costa circa a spannella 180-200 euro al giorno a carico nostro di noi cittadini italiani quando un detenuto va alle misure alternative nel caso di specie nei check che è stato costa 0 lire signori 0 lire costa signora costa 0 lire lasci dire io li ho avuti a casa mia quindi so bene cos'è e i detenuti vivono grazie alla carità cristiana quindi ai banchi alimentari a tutti i ristoranti che danno le eccedenze eccetera eccetera e grazie al lavoro che fanno nelle comunità quindi intanto lo Stato ha un grandissimo vantaggio economico qualora ci fossero la possibilità di collocare un numero più importante di persone nelle misure alternative altro altro elemento importante la Costituzione italiana dice che la pena deve essere finalizzata al recupero ora i detenuti in carcere per poter parlare con chi che sia devono fare delle domandine che molto spesso rimangono carta straccia quindi non c'è nessun tipo di recupero da un punto di vista culturale educativo eccetera a mala pena c'è un po' di controllo sanitario per quelli che hanno bisogno evidentemente di cura eccetera ma le carceri italiane a fronte di questo sperpero di danaro sono effettivamente un'azienda fallimentare perché producono solo della recidiva questo però gli italiani lo devono sapere al di là dei luoghi comuni e quando noi abbiamo noi dicono i volontari che lavoriamo in questo mondo gli diciamo che tutti quelli che invocano la certezza della pena dovrebbero invece convertire questo motto nella certezza del recupero perché è una persona recuperata è una persona che non delinque più ed è un potenziale per la società uno invece che abbiamo chiuso in carcere buttato là sta un anno sta due anni sta tre anni sta quel che sta sta quel che la legge stabilisce quando esce è più incavolato di prima più delinquenti di prima perché le carceri sono l'università del crimine questo è la tragica realtà sociale delle carceri poi dopo può non starci bene chiaramente tutti quanti però questa è la situazione venendo al discorso dei check come funziona dal momento che io faccio il volontario dentro allora intanto è vero c'è un rapporto con il magistrato di sorveglianza o con i magistrati ma queste sono strutture private dove i magistrati liberamente decidono responsabilmente decidono di mandare persone che sono comunque con pene residue che devono essere per forza al di sotto dei 4 anni se sono pene definitive se sono invece ancora imputati o giudicabili siccome ancora non è definita la pena quindi potrebbe succedere che capita anche che vadano persone con pene maggiori salvo che quando arriva la pena definitiva conclamata le persone tornano in carcere quindi questo per fare chiarezza su chi eventualmente può accedere a queste strutture e non è che ci siano convenzioni le convenzioni ci sono là dove c'è un do-des cioè quando uno viene dato qualcosa io ti do un beneficio in cambio di un servizio questo avviene solo nelle comunità terapeutiche cioè per i tossicodipendenti non fatevi confondere il tossicodipendente è stimato un malato ed è a carico del servizio sanitario nazionale c'è un rapporto con i CERT e le comunità terapeutiche lì sì che sono convenzionate lì sì che bisogna avere delle convenzioni e rispettare dei parametri come professionisti eccetera un altro storio un altro mondo di cui non saprei bene neanche cosa dirvi ma quello è un altro mondo non stiamo parlando di questo le comunità educanti per carcerati che derivano dall'APAC brasiliano sono quelle di cui stavo parlando adesso qui possono accedere persone che hanno pene residue sono inferiori ai 4 anni e eventualmente se arrivano persone che non hanno pene definitive qualora diventino definitive tornano in carcere questo succede normalmente i recuperandi che accedono a queste strutture non hanno neanche un secondo di tempo libero ma hanno la giornata marcata minuto per minuto con attività educative religiose lavorative psicologiche eccetera non psichiatriche attenzione bene qui non sono strutture per pazienti psichiatrici non esiste al mondo perché ripeto le strutture psichiatrici sono i REM che hanno fatto adesso è tutta un'altra cosa è una storia recentissima va bene io adesso mi taccio subito siccome siccome veniva chiesta chiarezza le cose da dire sarebbero molte io allora io adesso mi fermo se qualcuno vuole sapere di più no no ma ma io ho già finito perfetto io ripeto poi se qualcuno dovrebbe fare delle domande per capire per saperne di più io sono qua volentieri ma non è che io devo concludere cioè nel senso che mi sembra che le cose assaglienti le ho dette se qualcuno ne vuole sapere di più o vuole confutare quello che ho detto io sono qui ne parliamo civilmente tranquillamente Igor non c'entra niente con noi signore ma Igor è un altro paio di maniche lasci perdere voglio voglio solo vi do subito voglio solo precisare due punti fondamentali perché mi sembra che ci sia un po' scusate facciamo così volevo solo precisare due cose perché mi è sembrato di capire dall'introduzione del signore che ringrazio perché Sergio che ringrazio perché per noi in una discussione ci sono i pro i contro e si valuta per cui ognuno porta la sua esperienza ed è un motivo di arricchimento volevo solo precisare che noi non siamo organizzatori della petizione non siamo promotori della petizione non siamo neanche organizzatori di una serata che deve disquisire sul metodo o il modo di recupero non siamo in grado di farlo e non ci permetteremo mai di farlo noi come Movimento 5 Stelle siamo dei portavoce veniamo nei quartieri per cercare di raccogliere quelle che sono le istanze dei quartieri visto che i quartieri così come sono stati strutturati da questo comune non funzionano e questo è un dato de facto non lo dice Benini Simone lo dicono gli atti in consiglio comunale visto che ci sono anche mozioni presentate dallo stesso PD per far funzionare i quartieri per cui la sua introduzione ha una pecca noi non siamo quelli che portano questa petizione la petizione è popolare la cosa che ci piace a noi è che i cittadini utilizzino gli strumenti sanciti dallo statuto comunale che sono la nostra costituzione fra questi c'è la petizione che è uno strumento di partecipazione allora se il movimento è qua stasera è perché noi teniamo tantissimo al fatto di dare voce ci crediamo portavoce non consiglieri comunali ma portavoce per portare le istanze vostre in consiglio comunale il giudizio sul metodo di recupero non lo può dare Benini Simone la Carla o Daniele Vergini o qualsiasi altro componente del meetup perché quei metodi vengono scelti da persone che sanno fare quel lavoro noi siamo qui però a dire una cosa grave tramite la Carla che questa comunità non è stata informata di quello che in questa comunità si è voluto calare dall'alto giusto? perché se la signora Carla ha raccolto 160 firme ed è arrivata penso sulle 300 400 quasi 500 firme di Malmissolesi e le 5 diciamo frazioncine qui attorno vuol dire che forse l'informazione che lei ha non c'è stata o non c'è stata la divulgazione in questa comunità e va di bene come ha sottolineato anche l'intervento precedente per integrare un metodo in una comunità forse la comunità deve essere coinvolta ecco questo è quello che il movimento è qui a fare a farvi capire che la comunità deve essere coinvolta questi metodi che noi abbiamo trovato nei giornali sono stati sistematicamente proposti in questa maniera ovvero la decisione fatta presa si comunica alla popolazione che deve accettare passivamente è ora di basta perché questo a livello politico io mi permetto di dirlo perché noi siamo proprio entrati in politica per questo basta è ora di basta quindi volevo sottolineare soprattutto il fatto che noi siamo uno strumento adesso ci sono benini e vergini che fanno il portavoce domani ci saranno qualcuno di voi spero che voglia venire a metterci la faccia come ha fatto la Carla lei ci ha messo il suo tempo la sua faccia la sua voglia di portare avanti una cosa ed è ed ha coinvolto la sua comunità in un problema che riguarda la sua comunità e l'ha portato ai vertici in discussione in consiglio e sapete una cosa alla politica quella con la P minuscola dà fastidio dà molto fastidio che si discuta di queste cose che si discutano le petizioni il mio collega Vergini è stato leggero prima perché ha detto ce l'hanno voluta bocciare ce l'hanno tenuta nascosta è più grave la cosa perché non hanno tenuto nascosta la cosa a me a lui hanno tenuto nascosta la cosa alla cittadinanza perché se la signora Carla non si impuntava non metteva la sua faccia nel portare questa cosa a livello generale per Forlì la discussione non si innescava veniva tutto messo nei cassetti come forse le domande dei carcerati che vogliono magari uscire fare qualcosa per recuperare la loro vita per quanto riguarda questo noi come movimento abbiamo presentato sul suggerimento di Sensoli e Bertani con cui ho visitato il carcere di Forlì in realtà io non sono potuto entrare perché non potevo entrare come consigliere comunale mentre loro come consigliere regionale come parlamentare hanno potuto quindi abbiamo fatto una visita ispettiva e nella visita ispettiva è venuto fuori che il carcere di Forlì ha dei problemi enormi che non sono tanto di organizzazione ma sono problemi enormi di spazi di personale e di struttura fatiscente noi abbiamo un castello stupendo Forlì che ha una storia non indifferente e è un carcere cioè questa è voglio dire è la botta bestiale che diamo al nostro turismo avremo un posto turisticamente attrattivo visto che i castelli vanno ci sono i precosi e noi non lo usiamo ci mettiamo dentro i detenuti che ci costano un occhio della testa che non vengono recuperati socialmente siamo costretti a fare risuota carceri perché i carceri li costruiscono e poi qui lo dico e qui lo nego sono da ricostruire perché hanno il cemento che non è in misura sufficiente al ferro utilizzato per cui molte strutture sono da rifare abbiamo un carcere in costruzione nel quartiere 4 doveva essere all'avanguardia ma ormai è 20 anni che doveva essere all'avanguardia e alle domande dirette dei parlamentari hanno detto che non sapranno quando verrà finito di costruire chiudo dicendo solo una cosa che noi abbiamo presentato una mozione per istituire il garante delle persone private della libertà e a Forlì non c'è no a Forlì non c'è c'è a Rimini e a Forlì non c'è e adesso vi passo la parola perché magari qualcun altro di voi cittadini adesso che abbiamo rotto il ghiaccio a voglia di parlare la cosa che però è più fastidiosa è che le sue informazioni potevano venire fuori qualche mese fa e magari chi ha organizzato chi ha organizzato di fare nella canonica che a me sembra comunque un posto personalmente mi sembra un posto un po' non adatto a un recupero ai fini lavorativi e sociali di inserimento l'ha fatto con incontri ristretti creando difficoltà al dialogo con la popolazione locale con tentativi come abbiamo visto di anacquare la cosa con decisioni calate dall'alto accusando gravemente i cittadini che hanno proposto la petizione di non essere dei bravi cristiani che per un cristiano è una mazzata mostruosa a me non mi tolgono non mi tocca ma per un cristiano è una cosa mostruosa sentirsi dire che non sembravo cristiano da un parroco questo non è bello è per quello che noi siamo qua noi vogliamo tirare fuori queste cose qui e quindi siamo anche qui per cercare di farvi capire quali sono gli strumenti della partecipazione che ci sono nel nostro statuto e che sono la nostra è la nostra costituzione dobbiamo usarla prego si presenti buonasera io mi chiamo Domenico Mengossi e diciamo che sono quello che tiene calmo i ragazzi della petizione perché diciamo la parte calma della petizione chi mi conosce un po' di più sa che sono quello che ha dato il via alle lettere quelle che hanno causato tutto questo io ho chiesto come si chiamava perché pensavo fosse il signore che nel giornale qualche giorno fa ci ha dato dei cattivi cristiani perché avevo letto che veniva dal di là invece ho visto che non è lei quello che ci ha detto lei ce l'hanno detto anche la sera del 15 marzo ce l'ha detto il signor Barberis del Papa Giovanni XXIII che io ho ascoltato bene sono stato quasi zitto tutta la sera quella sera lì poi mi sono andato a vedere se quello che ci ha detto corrispondeva al vero perché ci dite tanti numeri tante cose ma molti danno per scontato che è vero e io ho trovato delle cose che non mi tornano voi dite che il detenuto costa sui 200 euro al giorno e che dando via al vostro progetto lo Stato risparmierebbe quei soldi lì voi avete detto più volte sia il signor Barberis che lei ma non corrisponde al vero io sono andato a vedere su internet e ho tirato giù un foglio del Ministero della Giustizia se vuole glielo leggo quanto costa il sistema penitenziario italiano è diciamo così rapportato fino al 2013 perché in Italia ci mettono un po' a fare tutte queste valutazioni comunque nel 2013 il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ha speso circa 124 euro al giorno per ogni detenuto di questi solo 9,26 euro il 75% sono serviti a mantenere i detenuti quindi lo Stato risparmierebbe solo 9,26 euro adesso le spiego perché uno sguardo alle varie voci che compongono la spesa per le carceri e al suo andamento nel tempo tra il 2001 e il 2013 il costo medio dell'amministrazione penitenziaria è stato di circa 2,8 miliardi all'anno questa cifra è composta da costi fissi tra i quali la manutenzione delle carceri e le spese per il personale e da costi variabili come il mantenimento dei detenuti che sarebbe quello che risparmierebbe lo Stato il cui numero può cambiare di anno in anno osservando il costo giornaliero per ogni carcerato si nota che è stato costantemente contenuto tra i 100 e i 130 euro anche se Barberis nel giornale ha sparato 300 euro giornalieri fanno eccezione gli anni immediatamente successivi all'indulto 2006 come ha detto lei dove è schizzato fino a 190 euro in conseguenza della riduzione della popolazione carceraria perché? perché se i carcerati diminuiscono i costi fissi sono sempre quelli lei mi insegna che nel 2013 lo Stato italiano ha speso circa 124 euro al giorno per ogni detenuto un costo che si compone di molte voci diverse che possiamo analizzare nel dettaglio analizzando come sono composti i 123,78 euro al giorno che lo Stato ha speso per ogni detenuto nel 2013 osserviamo che la stragrande maggioranza delle spese è servita per pagare il personale personale che se togliamo dei detenuti dal carcero non è che viene licenziato fa parte dei costi fissi si tratta di quasi 102 euro pari a più dell'82% che questi non vengano risparmiati trattandosi di un costo fisso questa quota di spese è aumentata rispetto agli anni precedenti come conseguenza della riduzione del sovraffollamento quindi la spesa per il mantenimento dei detenuti invece variabile in funzione del loro numero vale 9,26 euro al giorno per ogni carcerato in altri termini solo il 7,5 del bilancio dell'amministrazione penitenziaria serve a mantenere i detenuti poi qui parla delle spese per i beni i servizi che sono qui squiglie quindi perché ci volete prendere in giro anche con questi numeri se uno si presenta e vuole presentare un progetto cioè non deve prendere in giro la gente perché voi dite che lo Stato ci fate sentire in colpa se voi non appoggiate questo progetto siete anche incapite che è una risorsa per lo Stato perché io poi mi sono fatto delle altre domande siccome il signor Barberi si ha detto che la sicurezza sarebbe aumentata qui perché passerebbe una pattuglia di carabinieri una o due volte al giorno che ci fossero decarcerati nella prossima riunione che faremo in comune una delle mie domande sarà quanto costa un'ora di una pattuglia dei carabinieri che già sarebbe da togliere al normale servizio ordinario per farlo venire malmisso io penso che costi più di 9 euro quindi dovete dire che portare fuori i carcerati dalla prigione e metterli qua sarebbe un aggravio per i cittadini non risparmio voi dovete dire queste cose lei dice di no pare che questo è un documento del ministero di grazia e giustizia non è che me lo sto inventando io non è così secondo lei questo però non l'avete mai detto voi volete dire solo le cose che pensate che vi facciano comodo che la gente deve credere anche la storia della recidiva sarà sicuramente vero perché io non metto in dubbio il vostro operato però cioè va bene io ho un'idea che quando ci raccontano dei numeri è un po' come fare i sondaggi che uno può dire un po' quello che vuole perché l'ho detto anche con Don Nino gli ho fatto un sondaggio per far capire come funzionano i sondaggi a Don Nino gli ho chiesto scusi Don Nino quando io fumo posso pregare e lui mi ha detto ma certo e poi gli ho fatto la stessa domanda invertita ma quando prego posso fumare e lui mi ha detto no sarebbe cioè è la stessa domanda e le recidive per me cioè questi i numeri che voi portate a modi percentuali sono un po' una cosa simile perché le possiamo anche un po' ribaltare perché se in carcere il 70% ha delle recidive io non so quelli che portano fuori immagino che li vadano a scegliere fra i più tranquilli i più buoni mi viene da pensare e anzi spero che li scelgano fra il 30% che forse non avrebbe delle recidive o mi sbaglio o li vanno a scegliere tra i più pericolosi se li scelgono fra il 30% che poi non avrà di recidive quando esce da questo progetto il 10% invece avrà delle recidive allora cioè è anche quasi controproducente cioè dipende come girate la frittata allora io mi sono anche chiesto ma se questo signore che ci ha detto queste cose ci voleva prendere in giro o le ha dette perché sapeva di prenderci in giro perché se ci voleva prendere in giro secondo me è la cosa preoccupante perché diamo i progetti in mano a una persona che è in mala fede se le ha dette perché non le sapeva o non si era documentato mi fa ancora più paura perché diamo in mano un progetto a una persona che è incompetente ed è anche per questo che noi siamo arrabbiati siamo arrabbiati perché ci siamo sentiti presi in giro lasciamo stare tutte le storie di quartiere il comitato non ci ha aiutato il comitato ha detto che era neutrale poi invece ha tentato con due o tre delle loro persone di convincerci che il progetto era una cosa buona però quando uno di un'associazione ti accorgi almeno io ho avuto quel sentore lì che ti vuole prendere in giro per me è già fallito tutto io non lo ascolto più ci sono altre domande stavo scordando una cosa diciamo così d'ufficio noi stiamo tentando di tenere informate più persone possibili perciò per chi fosse interessato qui a fine assemblea o qualcuno l'ha già fatto può lasciare sottoscritto il proprio indirizzo mail e il numero di telefono per essere inserito in una mail list dedicata e un gruppo di whatsapp creati per lo scambio di idee e proposte su come procedere nella nostra petizione nel nostro cammino dopo se qualcuno perché io ho fatto diciamo così ho buttato giù due righe le abbiamo mandate i giornali le abbiamo fatte insieme ne ho fatte qualcuna io personalmente al vescovo a nome mio anche se il nostro parroco va dicendo nei giornali che noi lanciamo il sasso e nascondiamo la mano forse non sa che qualcuno sta scrivendo anche al vescovo ci mette anche nome e cognome quindi se dopo qualcuno vuole rimanere informato su quello che facciamo io e la signora Carla siamo formali ma è mia cognata su quello che facciamo o vogliamo fare noi non siamo un'associazione che abbiamo le nostre organizzazioni ci stiamo organizzando adesso quindi o facciamo una mail list con qualcuno che mi lascia la sua mail o il numero di telefono e poi abbiamo fatto un gruppo su WhatsApp che è Petizione Malmissole chi vuole aderire noi lo teniamo aggiornato buonasera io mi chiamo Daniele Severi abito qui a Villa Franca quindi vicino a voi e faccio parte da circa 30 anni insieme a mia moglie della comunità Papa Giovanni Mititresimo abbiamo otto figli i quattro sono nostri i quattro sono in affido e adottati e siccome sono il responsabile per la Papa Giovanni nella zona Romagna quando mi è stato chiesto di questo progetto la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di dire questo progetto ha senso nella misura che c'è un territorio che se lo fa proprio e allora la prima cosa che abbiamo detto è stata prima di decidere qualsiasi progetto andiamo sull'ubicazione che si può pensare quindi si era pensato a Malmissole e incominciamo a lavorare con il territorio questo è il chiodo fisso della comunità Papa Giovanni non abbiamo altro e poi vi posso spiegare perché sono state molte inesattezze dette nel senso che sono stati fatti diversi incontri ho le dati vi posso anche raccontare bene però no aspetti allora se me lo dici glielo rispiego allora le dico guardi il 5 dicembre e abbiamo scelto di farlo subito la richiesta di incontrare i rappresentanti dei comitati di quartieri alle acli di Malmissole abbiamo incontrato i comitati di quartieri e abbiamo raccontato e spiegato che cos'era l'idea che cos'era l'idea del CEC poi abbiamo fatto un successivo incontro dopo il 5 di dicembre il 12 dicembre e abbiamo convocato i membri del consiglio dell'unità pastorale e i rappresentanti dei comitati di quartieri Barisano Malmissole Poggio Roncadello e San Giorgio nei mesi successivi gennaio e febbraio dopo che nella discussione è venuto fuori che comunque poteva essere interessante c'erano delle paure c'erano delle domande eccetera quindi sono stati incontri anche belli il mese di gennaio e di febbraio noi abbiamo cercato di capire noi dico Papa Giovanni Caritas che ci aiutano in questo progetto capire la forma come fare come organizzare che cos'è per poi arrivare di nuovo a un altro incontro per ripresentare bene il progetto a febbraio ed è stato fatto il 13 febbraio un altro incontro sempre con il quartiere comitati i promotori dei comitati di quartiere e successivamente il 15 marzo che faceva menzione alla signora Carla però io voglio dire questo quindi ci sono stati fatti ampliamente incontri il 15 marzo è stata fatta ampiamente pubblicizzata ed era aperta allora io voglio capire cos'è che non ha funzionato in questo qui ma perché davvero non è che noi dobbiamo tirare l'acqua al nostro murino ma perché per capire intanto io vi dico che questa sera mentre vi ascoltavo io vi capisco perché mi è successa una cosa simile noi abbiamo aperto un piccolo villaggio qui a Villa Franca dove accogliamo delle famiglie e finché accogli una mamma con un bambino tutto carino va bene c'è arrivata la proposta di accogliere mamma zingara babbo zingaro e 5 figli zingari il babbo con più volte con recidiva anche del carcere ho avuto paura perché noi li accogliamo in casa nostra i miei figli non volevano questa famiglia lì vicino a casa perché hanno incominciato a dire ci ruberanno i giochi i più piccolini entreranno in casa che non ce ne accorgiamo ci possono fare del male e quindi veramente io capisco quello che voi dite questa sera perché anch'io ho avuto paura e anch'io di fronte a questa situazione mi sono chiesto che cosa fare non avevano documenti quindi noi non li conoscevamo davvero perché venivano tra l'altro da un'altra città abbiamo scelto con molta paura di prenderli di accoglierli in casa e questa sera sono venuto via mia figlia era a cena da loro dalla famiglia zingara che lì di fianco e chiaramente i bimbi giocano abbiamo regolarizzato il padre sta lavorando abbiamo un lavoro di un anno però la cosa che mi ha colpito è intanto che questi bambini non hanno rubato niente il padre non ha rubato niente in giro nel quartiere chiedono tutte le cose ma ho capito che loro lo fanno non perché sono improvvisamente diventati bravi ma perché noi li abbiamo messi nelle condizioni di poter fare questo cambiamento quindi abbiamo potuto dare casa alloggio vitto scuola per i figli lavoro regolarizzazione dei permessi una roba che ci è costata una barca di soldi perché chiaramente non c'era un servizio non c'era niente dietro allora questo mi fa pensare sul fatto che anche noi siamo d'accordo sul fatto che i carcerati devono avere la certezza della pena però diciamo anche che ci deve essere la certezza del recupero allora il fatto che noi diciamo e abbiamo l'esperienza che le case stanno funzionando e i ragazzi che escono sono ragazzi che sono maturati che sono diversi che sono capaci di vivere ma questo è una cosa molto bella concludo dicendo che il motivo per cui ho scelto quella famiglia Zingara non era per me perché a me mi creava dei problemi il motivo è stato per i miei figli ho pensato a loro al fatto che accogliere loro questa famiglia Zingara davo la possibilità ai miei figli di capire che è possibile un mondo tra diversi che è possibile il dialogo che è possibile che anche se qualcuno sbaglia può avere l'opportunità di recuperare noi come Papa Giovanni abbiamo delle esperienze molto positive in questo quindi non abbiamo dei motivi per dire che fare questa casa vicino a un cimitero o vicino a un bar o vicino a delle abitazioni civili questo può creare dei precedenti vi ripeto noi li abbiamo in casa ma però questo vi voglio dire anche per allargare voi sapete che qui attorno ci sono circa 100 ragazzi tossicodipendenti abbiamo una comunità a Durazzanino a Durazzano a Fornò tutte da questa parte qua e a Villa Franca allora quattro comunità terapeutiche avete mai sentito sul giornale qualche fatto? ragazzi che ci arrivano alla metà anche dal carcere ma ragazzi che si sono recuperati ragazzi che sono diplomati laureati che si sono ricongiunti con le famiglie quindi abbiamo una marea di storie mi piacerebbe questo lo dico anche con il comitato e rinnovo la nostra piena disponibilità a dire noi ci siamo qualsiasi cosa avete volete chiedere ci sono dei dubbi eccetera noi siamo qua e ben volentieri siamo qui per dialogare poi chiaramente ognuno può tenere la propria opinione grazie salve a tutti io sono Sara Greco e ho preso la parola soltanto per condividere con tutti i presenti uno degli aspetti da aggiungere a tutti quelli raccontati non perché è per parentela ma perché sono realmente accaduti documentati da mio zio e mia mamma l'esperienza del volontariato e dunque i volontari il 15 marzo ce li abbiamo presentati come una delle pietre portanti bene io ho partecipato al processo iniziato il 24 marzo ce n'è stato un secondo a distanza più o meno di un mese e al terzo solamente io e una e un'altra le uniche che non abbiamo esperienze precedenti con coloro che siedono al tavolo dei volontari quindi che si sono aggiunte del luogo ci siamo ritrovati al luogo del ritrovo senza nessuno insomma chiedendo siamo ancora là che dobbiamo aspettare perché il giorno è l'ora dell'incontro non abbiamo trovato nessuno ora per carità noi abbiamo dato una mail questa mail non ha avuto una risposta io penso che possa bastare questo grazie 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 allora dove mi metto no la questione fondamentalmente è una io volevo intervenire però io qui volevo intervenire spessare un attimo una lanza a favore dei comitati di quartiere io sono nel comitato di quartiere di Barisano prima sono state spiegate anche tutte le date che ci sono state per fare informazione noi siamo stati chiamati io mi sembra la prima a cui io personalmente ho partecipato è stata a gennaio noi adesso per spiegarvi a Barisano come abbiamo fatto ma poi una modalità informativa io parlando anche un po' con Malmissole eccetera ci dovrebbe essere stata anche a Malmissole poi adesso vi spiego a Barisano che comunque è lì quindi come abbiamo agito noi trimestralmente ovvio che le assemblee del quartiere sono sempre aperte e pubbliche però trimestralmente mandiamo fuori un volantino con scritti punti problematiche che possono essere venute fuori segnalazioni come sono andate a finire e tutto e le mettiamo sul volantino per discuterne parlando delle varie tematiche che ci sono noi e questo è successo prima del 3 marzo abbiamo fatto messo fuori un volantino dove appunto tra i punti c'era anche la casa della speranza nel senso che ci avevano chiamato ne avevamo parlato c'era questo progetto che ancora non era definito nei dettagli e abbiamo detto beh in occasione comunque di questa assemblea trimestrale la portiamo all'attenzione noi per ogni volta che facciamo queste assemblee trimestrali stampiamo tot volantini e facciamo il buchettaggio porta a porta per tutta Barisano quindi lì è arrivata di sicuro dopodiché dialogando comunque con la pastorale si è detto facciamo un qualcosa un'assemblea per spiegare nei dettagli che cosa si vuole fare qui perché il comitato di quartiere si deve fare appunto da punti di comunicazione e così è stato ed è stata realizzata l'assemblea che è stata del 15 marzo e anche lì abbiamo messo fuori dei volantini questa volta però mi ricordo che noi Barisano non facciamo il porta a porta per una questione anche di tempo nostro perché anche noi siamo tutti volontari e ci mettiamo tutte la pazza ci facciamo un gran culo permettetemi volontariamente e anche per questioni di tempo di tempi ristretti per formulare un po' il volantino spiegare a grandi linee che cosa potesse essere tutto l'abbiamo fatto girare sul gruppo che c'è su Whatsapp a Barisano che è tipo infoladri abbiamo fatto messo diciamo nei principali punti di ritrovo di Barisano per poter far venire la gente a questo incontro poi un'altra cosa qui ho sentito io adesso mi sono perso i primi 20 30 minuti di discussione però quando sono entrata si parlava appunto del fatto delle accuse di cattivo cristiano o buon cristiano io da quello che so sono giunte anche email di minacce verso dei coordinatori di Roncadello dei Malmissole scusate quindi ora io credo che dividere una divisione così netta della comunità non faccia bene a nessuno soprattutto perché siamo delle collettività molto strette e molto piccole e bisogna cercare una collaborazione secondo me e se ci sono degli aspetti comunque in cui diciamo si possono esprimere delle crescità che sia il numero di volontari che sia una qualsiasi altro tipo di cosa anche a livello organizzativo però penso che dall'altra parte provare a dialogare e noi come comitati di quartiere ci poniamo come punti di comunicazione non ci poniamo invece come ad esempio enti che prendono una posizione perché non è il nostro ruolo poi io personalmente posso avere una posizione posso dialogare con altri e parlare della mia posizione e in un dialogo di solito magari ci può essere quello che vuole convincere l'altro o queste cose però io esprimo anche una mia opinione come persona non è che la esprimo come comitato come comitato non ci siamo sempre limitati a fare punto di comunicazione e mi sembra che questo ecco sia stato fatto c'è stato l'episodio mi sembra della sala perché questa qui doveva essere fatta alla scuola di Barisano che prima sembrava che doveva essere di competenza nostra noi abbiamo detto è un posto di comunale cioè sembrava che dovessimo dire noi che poteva entrare noi abbiamo detto ma veramente sarebbe il comune il comune poi ha detto a voi voi invece lo dovete lo dovete concedere a quel punto cioè siamo detti vabbè allora dici quando la volete fare però a quel punto è intervenuto ancora il rimpallo dall'altra parte per cui si è detto non c'è la capacità strutturale la capienza per poter ospitare questa cosa però anche noi saremmo stati disposti ad ospitare se ci fossero state comunque le possibilità volevo solo chiarire questi due concetti grazie scusate se approfitto che aggiungo perché in realtà ci sono delle piccole inesattezze voglio ricordare anche a te che la proprietà è comunale e il gestore dovrebbe essere il comune che purtroppo per inefficienza sua dei suoi uffici e perché non è stato ancora in grado di fare un regolamento nuovo utilizza il regolamento delle circoscrizioni che non esistono più quindi il regolamento non è valido ci sono ancora i riferimenti di presidenti di circoscrizioni che non ci sono più e sono i gestori delle sale questo è vergognoso in una città come Forlì e loro non hanno ovviamente come aspetto politico quando in consiglio comunale si è deciso il regolamento dei quartieri noi siamo stati i primi a dire che i regolamenti dei quartieri dovevano nascere e come quartieri dovevano avere gli strumenti per poter agire sul territorio loro non hanno neanche la sala ci sono dei quartieri che non si riescono neanche a trovare si trovano a casa si stampano i volantini da soli gli danno 700 euro all'anno per fare cosa? La sagra la festa del paese e poi che cos'è? Tangibile concreto no per fare i volantini per fare i volantini ecco mi piacerebbe sapere poi magari dopo quanta partecipazione c'è stata ai comitati alle riunioni tre precedenti quella pubblica con i comitati con i promotori per capire loro da chi hanno preso le informazioni per decidere se il progetto può andare bene no abbiamo sentito la cittadinanza il progetto non piace perché se voi come ente promotore o comunque gestore di questo processo non lo fate veramente partecipativo con i cittadini ma vi basate sul giudizio che vi possono dare i comitati di quartiere ci sono i comitati di quartieri che sono due o tre persone voglio dire due o tre persone non possono decidere per una comunità devono fare loro da da ragnatela da rete con la cittadinanza e la comunità locale e poi raccogliere le stanze e portarvele per poi fare magari una manifestazione come questa che non doveva organizzare il Movimento 5 Stelle doveva essere una cosa organizzata dai quartieri dal comune dalla diocesi dalla Papa Giovanni per integrare perché scusate non è almeno da parte nostra non è in discussione il progetto in se stesso benvenga il recupero perché comunque sia anche parte del Movimento 5 Stelle prima c'è il recupero delle persone che sono sempre persone anche se nella vita hanno sbagliato questo è fuori da ogni dubbio poi che ci sia anche la richiesta di certezza della pena è una cosa che fa parte dello stesso complesso però ecco secondo noi e secondo questi 400 cittadini è mancata un'informazione capillare è mancata quella che è la rete io adesso passerei alle domande andiamo a volte c'era no c'era ah scusami chiedo scusa volevo riferirmi al signore che ha detto che l'informazione è stata fatta allora qui bisogna che ci mettiamo d'accordo su un punto però o che capiamo che cos'è il quartiere il paese perché il paese non è fatto solo di comitato di quartiere e comitato pastorale ci siamo anche noi se voi vi parlate fra voi comitati ma non divulgate al paese noi non siamo a conoscenza dei vostri progetti non lo siamo venuti a conoscenza al quarto incontro il 15 marzo ma i precedenti li avete fatti solo fra di voi io ho saputo di questo progetto andando a vedere neanche i verbali del mio comitato di quartiere quello di Roncadello in data 6 dicembre sono andata a leggere che ci sarebbe stato il 12 dicembre a Malmissole la presentazione del nuovo progetto Casa della Speranza con tutti i comitati delle 5 comunità io lì lo sono venuta a sapere ma a marzo era perché il mio comitato non ha detto niente allora è qui che manca c'è un ingranaggio che viene a mancare perché se parlate fra di voi e poi che il parroco dica non divulgate ancora intanto che non abbiamo la certezza i comitati cosa verranno a dire con i parrochiani cosa verranno a dire e poi c'è un'altra cosa che io voglio sottolineare ognuno di noi in casa propria è libero di fare volontariato di aiutare il prossimo di partecipare e di essere nell'anonimato perché non c'è bisogno di avere un distintivo al petto per dire io sono faccio il volontariato perché ognuno lo fa a modo suo però voglio dire solo una cosa è inutile che ci vogliamo nascondere io adesso i listini non li so li chiamiamo così li chiamiamo però a tenere in affido dei bambini non sono a spese mie ho un contributo dal comune è vero o no? quindi è inutile che ci facciamo ci riempiamo sempre la bocca di volontariato quando non ci togliamo i soldi dalla propria tasca in casa mia io ho il mio compagno che per seguire una famiglia che viene dal Burkina Farsi i soldi se li tira fuori di scala tasca proprio io quando vado a fare la spesa la faccio per loro questo vuol dire volontariato questo vuol dire pensare al prossimo secondo me qui a Malmissole si vuole fare pensando al bene degli altri è qui che io mi arrabbio e non voglio che arrivi questa cosa non si può giocare sulla pelle dell'uomo perché se l'uomo ha sbagliato è giusto che sia aiutato è giusto che sia inserito nel mondo della società però non ci devi giocare sopra non puoi pensare di mettere a posto un appartamento di ristrutturare una canonica sulle spalle di 13 detenuti perché se non c'erano i fondi voi non facevate niente a Malmissole è quello che io non ci sto con Donnino ho detto personalmente al telefono perché mi sono scusata con Donnino per una intervista sul giornale che non sono parole mie e io ci metto la faccia quindi se le cose non sono chiare non voglio andare avanti su un discorso se sono falsa sulla cosa che sto parlando le ho chiamato e mi sono scusata di questo perché non erano le mie parole ma al di là di questo gli ho detto che intanto che non avrò trasparenza se sarà la magistratura a dire che c'è trasparenza sul denaro che verrà erogato in quella struttura allora starò zitta intanto che non c'è questo io non starò zitta perché non è questo il modo di comportare la società deve vivere in un altro modo più corretto e dobbiamo essere più uniti su queste cose non mi potete venire a dire vi abbiamo informato ma chi avete informato con chi avete parlato l'ha detto lei con il comitato di quartiere i comitati pastorali questo è il paese se poi dopo non viene divulgato noi possiamo dire che siamo tagliati fuori non esistete solo voi con Donnino gli ho proprio detto così non ci siete solo voi vi dovete adeguare anche a noi vi dovete inserire in mezzo a noi ci siamo anche noi esistiamo abbiamo diritto ai doveri come li avete voi nello stesso identico modo e per questo non è che siamo diversi non siamo diversi mettetevelo nella testa siete voi che volete fare la differenza ci fate capire mari, monti, destra ma se vi vengono a mancare l'erogazione che perché adesso nel discorso delle carceri è un erogatore nuovo lì scende il denaro e quello adesso si porta avanti e questo è il guaio non è per il bene volevo aggiungere solo un particolare a nostro parere giustissimo il recupero le comunità di recupero e tutte queste cose però certe cose che coinvolgono il territorio non possono prescindere dall'accettazione da parte dei cittadini residenti questa è una cosa sacrosanta un punto fermo che da parte nostra voglio che sia chiaro e ecco ad esempio qui si scoprono cose anche interessanti queste tre riunioni fatte col comitato del quartiere non erano notte alla cittadinanza quindi se voi mi dite che sono state fatte tre riunioni dove sono i verbali? sul sito del comune non ci sono ma soprattutto quando viene fuori una petizione firmata da 500 cittadini che sono contrari mi dispiace ma il vostro processo informativo non è stato efficace è come se non ci fosse stato purtroppo e quindi ne dovete prendere coscienza e da qui io faccio un altro ragionamento sul discorso anche dei comitati di quartiere i comitati di quartiere funzionano o non funzionano? chi rappresentano i comitati di quartiere? ma soprattutto le riunioni di questi comitati di quartiere vi vengono comunicate vedete dei volantini del comitato di quartiere che parlano di cose differenti da sagre o altre questioni così conviviali i comitati di quartiere devono fare informazione le riunioni devono essere pubbliche ma non perché può entrare chiunque però non si sa quanto ci sono devono essere comunicate la cittadinanza si deve sapere quando il comitato si riunisce e tutti voi dovete partecipare a queste riunioni dovete portare i problemi basta solo questo buonasera io mi chiamo Cristina Reciputi io ho proprio una domanda diretta proprio a lei era difficile organizzare una cosa così? ci siamo tutti? no ma adesso è il mio turno perché secondo me non era difficile quindi sono venuti tutti non abbiamo neanche che fa tutta questa pubblicità vuol dire che la popolazione era interessata è interessata del destino della propria terra e dei progetti che gravano sopra questa terra però io vorrei dire due cose io e Leo questo mio grande amico siamo volontari al parco della pace in via Piave un parco che era molto malmesso c'era una bella struttura in legno lui di sua iniziativa ha cominciato a tampinare il quartiere e insomma siamo riusciti a farci dare questa casetta che non vende niente però noi l'abbiamo aperta e quindi il parco è rinato ci sono tanti anziani che vengono a giocare i bambini ci siamo anche confrontati su un aspetto secondo me fantastico che io mi premo a comunicarvi perché quando noi siamo arrivati lì il parco era diciamo un po' gravato dalla presenza di 4-5 bambinetti abbastanza violenti e noi ci siamo guardati e abbiamo detto vabbè adesso mettiamo a posto il parco poi questi qua faremo in modo di insomma di allontanare ci sono bastate due settimane due settimane in cui abbiamo capito subito che l'inclusione era per noi l'arma vincente noi mandandoli fuori avremmo soltanto spostato il problema fuori dalla rete del parco nell'inclusione noi abbiamo il controllo di questi ragazzi stiamo creando un legame affettivo forte di rispetto quindi abbiamo capito che l'inclusione per noi se vogliamo vincere vogliamo aprire questo parco sempre di più alla cittadinanza è fondamentale ci siamo arrivati partivamo da una posizione di dubbio su questo perché i bambini erano abbastanza aggressivi con gli altri però quando ci vengono a chiedere e ci sono venuti a chiedere facciamo un bel comunicato stampa questo è un bel progetto questo è un bel risultato noi diciamo e io voglio dirvelo quello che diciamo diciamo no questo è l'esempio di un fallimento il fallimento delle istituzioni che ci stanno dietro e ci sono venuti a dire esportiamo il progetto ah dico volete esportare il lavoro gratuito ma voi lo sapete che noi sequestriamo quotidianamente tre ore alla nostra famiglia tre ore al nostro lavoro vogliamo esportare questo quando quando io sento parlare di progetti potrebbe essere un mio figlio un carcerato gestito da volontari io mi si alzano i capelli sulla testa ma dove siamo arrivati volontari le persone vanno pagate è scritto anche nella Bibbia vanno pagate lavorano sono impegnati mettono la loro testa la loro competenza sul progetto e sulla vita di queste persone vanno pagate e io un'altra cosa e poi chiudo perché bisogna capire che ormai siamo talmente abituati a sentirci dire delle cose terribili sulla nostra società che non ci facciamo più caso il primo intervento del signor Rossi o Rosso non mi ricordo è partito è iniziato proprio così dicendo le carceri fanno schifo le carceri sono brutte e quindi i carcerati sono in cattive condizioni io non metto in dubbio che questo sia vero quindi cosa facciamo? paghiamo le tasse per avere dei carceri che dovrebbero funzionare le nostre tasse non vengono utilizzate come di dovere e quindi ci ritroviamo sul territorio gestiti da volontari io sono d'accordo sono d'accordo che nell'emergenza la comunità si deve stringere attorno alle parti più fragili non deve mai venire a meno questo ma nella lucidità che abbiamo io e Leo e ce lo diciamo quotidianamente chiunque ci venga a dire bravi facciamo un articolo facciamo qualsiasi altra esposizione mediatica certo che la facciamo nessuno ce lo fa perché noi diciamo certo che lo facciamo un bel articolo e gli diciamo che noi siamo l'esempio del fallimento quindi i nostri figli devono capire che i loro genitori si sono attivati la comunità si è stretta attorno alle parti più fragili della società ma non dimentica che questo è un fallimento no niente mi fa piacere è che abbiamo la stessa idea io queste cose qui non così bene come le ha espresse lei ma le ho scritte nella nostra mail list del comitato quando gli dicevo ragazzi dovete fare qualcosa per dieci giorni sono stati il loro tormento nella mail list ma loro si sono sempre dichiarati neutrali non so perché ma io non ce l'ho neanche tanto col comitato anzi volevo rilacciarmi a quello che ha detto la ragazza di Barisano mi ero scordato prima di ringraziare il comitato di Poggio ad esempio che almeno si è schierato si è schierato ha fatto un verbale l'ha depositato in comune e aspetti che adesso lo trovo volevo leggere quello che ha scritto perché ce l'avevo qui il giorno 10 aprile ha depositato sto verbale si chiede pertanto al consiglio comunale di prendere in considerazione la possibilità di ridiscutere il progetto per capire eventuali responsabilità legate alla sicurezza dei quartieri la nostra richiesta dicono dovrà essere considerata sostegno a quella presentata da un gruppo di cittadini del quartiere di Malmissoli per questo che li volevo ringraziare hanno fatto le votazioni c'era la maggioranza contraria al progetto uno favorevole però almeno si sono schierati il nostro ha continuato sempre a essere a detta loro neutrale però bisognerebbe chiederlo con loro dato che qui ce ne sono due o tre questa sera perché hanno fatto così secondo me non voglio pensare male penso solo che abbiano sottovalutato all'inizio il problema penso io non voglio pensare male però bisognerebbe chiederlo a loro loro continuavano a dire che loro dovevano solo informare e noi gli chiedevamo ma se informate fate da tramite dalle istituzioni verso i cittadini ma dovete fare da tramite anche per l'altro verso cosa gli dite se non ci parlate con i cittadini tutto questo se qualcuno del comitato vuole dire le sue ragioni dato che qui ce ne sono due o tre io non dico nient'altro salve io sono Guerini Giancarlo vengo da Pieve Quinta però questa sera sono un cittadino di Malmissle e do una domanda al signor Severi che praticamente racchiude tutto il problema lei lo sapeva che erano zingari prima che venissero a casa vostra è una domanda mi può rispondere ok loro non sapevano nulla il problema è tutto qui allora io sono del comitato di quartiere di Malmissle oggi dato che noi ci siamo incontrati ovviamente come comitato di quartieri con la zona il comune ha chiesto ha chiesto di effettuare anche una selezione per un coordinatore di zona e avere un coordinamento di zona ci sono quattro zone sul territorio e noi siamo la zona nord 14 quartieri Morale della Paola ci siamo incontrati e come comitati io non sono il coordinatore intanto sono il segretario vengo mi sbatto per le riunioni sono volontario eccetera vabbè e allora come comitati di quartiere ci siamo detti che non era nostro onere prendere posizione non era nostro onere prendere posizione mi scuso infatti perché noi siamo veramente poca roba noi non abbiamo un potere decisionale in questo noi non siamo attori in questo c'è un'associazione di scopo temporaneo che è stata creata che nel momento in cui ha avuto le informazioni per rispondere ad ogni eventuale domanda che poteva venire posta si sarebbe presentata a Malmissole per fare un incontro pubblico l'incontro pubblico si è svolto il 15 marzo questo incontro è stato il primo momento in cui gli attori ci hanno assicurato di avere tutte le domande tutte le risposte alle eventuali domande che potevano essere poste ora noi ovviamente adesso sembra una giustificazione ma guardate a noi ovviamente del quartiere se il progetto va in porto o il progetto non va in porto a noi importa soltanto che la comunità rimanga unita a noi non ce ne torna in tasca ben niente ovviamente io credo voi lo riusciate a capire non accetto i borbottini perché non mi sembrano carini ci siamo già sentiti noi io io ti ho sempre risposto personalmente perché perché ci tengo a questa cosa mi sono candidato che c'erano ecco il punto non è il fatto che si è mancata la comunicazione il punto è che la comunicazione noi come comitato di quartiere siamo l'ultima estroflessione mi corregano i consiglieri se sbaglio siamo l'ultima estroflessione del comune siamo la falange ultima del comune no? purtroppo no ecco se qualcuno mi può rispondere cosa siamo noi perché neanche noi crediamo che i quartieri non funzionino ma è ovvio noi siamo dei volontari e poi in questo caso specifico non abbiamo potere decisionale alcuno noi speravamo che fosse l'unità pastorale eventualmente se voleva farsi un'informazione preventiva di qualche genere ma il discorso è che noi come comitato di quartiere abbiamo aspettato che l'unità pastorale insieme alle altri agenti avesse creato questa associazione questa associazione che potesse rispondere a tutte le domande quanto prima abbiamo fatto la riunione il 15 marzo e a quel giorno sono cominciate giustamente tutte le problematiche di problematiche è nata è sorta giustamente la petizione noi non ci siamo mai schierati contro la petizione io ho parlato con Carla diverse volte non abbiamo nulla in contrario il problema è che noi non potevamo schierarci perché noi dovevamo per forza al di là di quella che fosse l'opinione delle persone all'interno del comitato tener conto anche dei pro c'è qualcuno che è anche pro che ci crediate o meno ma certo appunto quindi noi non potevamo partire il 15 di fronte alla manifestazione dei dissensi che ci sono stati il 15 perché il 15 ci sono stati dissensi più che domande non è stata molto approfondita la faccenda e quindi per forza di cose dopo il dissenso partiva un po' da una mancanza di informazione che dopo la petizione si è preso carico di informarsi scusa la mancanza di informazione doveva essere data dal quartiere o dall'unità pastorale che è la gente il discorso purtroppo è che l'unità pastorale e il quartiere sono più o meno pari come potere come potere decisionale c'è la solo l'unità pastorale allora facciamo così provo a darti due spiegazioni visto che tu sei se non sbaglio Montaguti Enrico giusto? allora sul sito del comune tu ti dovresti arrabbiare come portavoce del tuo quartiere ci sono solo due verbali uno datato 14 marzo 2016 uno 10 ottobre 2016 finisco aspetta Enrico questo ti dà la misura di quanto il comune abbia voglia che voi quartieri abbiate una funzione specifica non c'è nessuna voglia che voi abbiate una funzione specifica perché altrimenti vi davano gli strumenti noi li abbiamo chiesti d'alta voce in consiglio comunale abbiamo gridati ma noi siamo in due cosa facciamo? alziamo due manine contro due manine a favore o facciamo delle proposte chi ha creato i quartieri nell'imbarazzo generale di tutti i consiglieri non ha fatto pubblicità da alcuni consiglieri di maggioranza e tutti i consiglieri di minoranza è partita una petizione al prefetto per rinviare le elezioni dei quartieri scusate un esposto petizione vabbè un esposto questo esposto chiedeva al prefetto di spostare la data perché ci doveva essere pubblicità cioè tutto questo per dirvi che l'amministrazione su questa gestione del territorio manda avanti gli Enrico che non hanno gli strumenti per poter fare quello che la mission e quindi lo statuto del comune chiede ovvero che i quartieri siano il collettore delle problematiche e delle soluzioni perché alla comunità locale si chiede di protestare ma si chiede anche di proporre alternative così come ha fatto nella petizione la Carla che hanno fatto una protesta ma hanno anche fatto una proposta questo sarebbe la sine qua non protesta e proposta se al comitato di quartiere non gli viene dato lo strumento minimo indispensabile che è l'informazione quindi la pubblicazione dei loro verbali le sale dove riunirsi le fotocopie il telefono il vale internet per riuscire a distribuire l'informazione nella comunità cioè sono inutili e loro si trovano in imbarazzo perché devono tenere una posizione di equidistanza da cosa l'equidistanza si tiene quando si è giudici ma quando si è comitato di quartiere si portano le istanze del quartiere si portano dal assessore e forse tu Montaguti dovresti conoscerne uno che è il vice sindaco e si portano no voglio dire no aspetta ti faccio parlare voglio solo dirti che come comitato di quartiere si devono portare le voci del quartiere si deve portare in comune e si deve dire il quartiere vuole informazione il quartiere vuole questo non solo organizzare le feste del quartiere perché io ho due verbali se volete li possiamo leggere io mi imbarazzo no mi imbarazzo non li voglio leggere sono due uguali che parlano solo della festa io mi imbarazzo perché se questa è la funzione che in consiglio abbiamo chiesto ai comitati di quartiere io mi vergogno e queste parole le ho dette in consiglio comunale le abbiamo dette ad alta voce noi ci vergogniamo se questa è la funzione dei comitati di quartiere non devono esistere pensate che come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una mozione per fare il bilancio partecipativo che vuol dire che si riuniscono i quartieri come fanno in alcuni comuni e si chiede ai quartieri una somma dove la vogliono investire cosa vogliono fare nella loro località se vogliono fare la rotonda più bella se hanno bisogno di un parco per i bambini se hanno bisogno delle giostre se hanno bisogno di mettere a posto dei marciapiedi se hanno bisogno di farle fuori la pubblica illuminazione ci sono ancora dei quartieri che non hanno le luci nelle strade le buche ci sono anche qua non solo a Roma anche se le stanno chiudendo voglio dire questo dovrebbe essere la funzione di un quartiere voi giovani dovete avere l'energia per urlarla e chiederla questa cosa io mi raccomando crescete fatevi sentire in comune dovete urlare perché come comitato di quartiere avete un potere enorme voi siete eletti non dimenticatevelo voi siete eletti democraticamente mentre l'amministrazione comunale a parte il sindaco il resto sono nominati è diversa la questione buonasera a tutti io scusate l'emozione ma sono qua che vi parlo da ex detenuto quindi un esempio più di me penso che non potete averlo grazie grazie io prima di entrare in comunità la pensavo come voi perché se io penso che mia moglie mia mamma io ho un fratellino di otto anni quando esce di casa la sera deve stare attenta perché non sa chi c'è per strada cosa gli può succedere pieno di stranieri ma io sono d'accordo con voi che bisognerebbe mettere delle misure su questo non ci piove e l'idea e l'idea della comunità dal carcere mi ha sempre spaventato perché ho detto cosa vado a fare cosa mi serve non mi serve a niente io ho fatto un reato devo scontarmi la mia pena cosa mi servirà non ci credevo in questa cosa sta di fatto che mi sono fatto decidere mi sono fatto convincere di di andare in comunità e sono andato nella comunità di Saludecio una casa per carcerati sono entrato e la mia idea rimaneva sempre la stessa che io da quel posto ero sicuro che non ci potevo cavare niente col trascorrere del tempo però ho visto che qualcosa stava cambiando perché comunque sia avevi delle persone che non ti giudicavano per i tatuaggi perché io così dove vado fuori chi mi prende a me a lavorare eppure sono un bravo ragazzo un gran lavoratore mi spacco la schiena tutto il giorno ma chi mi prende solo perché ho i tatuaggi solo perché sono stato in galera non mi prende nessuno questo è il fatto invece lì ho trovato delle persone che mi hanno voluto bene non mi hanno giudicato per i tatuaggi non mi hanno giudicato per il reato che ho commesso per i reati che ho commesso posso? posso finire perché avete una prova qua che questo la comunità che poi magari da parte loro ci possono essere stati degli sbagli io questo non lo so non ci voglio neanche entrare però la comunità per noi serve ma serve veramente perché perché il carcere io vi dico da persona che l'ha vissuto uno entra in carcere è dimenticato dal mondo nessuno nessuno si ricorda di te sei sbattuto lì dentro non hai un rinserimento sociale non hai un riavvicinamento con le famiglie in caso tu l'hai perduto per vari motivi e quando esci fuori ti mettono fuori dal cancello con i tuoi borsoni e ti dicono lì c'è il mondo affronta il mondo da solo quello è un problema la comunità questo non lo fa perché una volta che anche uno che ha finito la sua pena di scontare la sua pena che sentivo prima che si diceva eh ma se uno ha una pena di sei mesi sta lì sei mesi e poi eh cosa vuoi che cambia in sei mesi no perché uno che ha anche una pena di sei mesi e finisce uno può prendere la decisione di rimanere in quel posto e continuare il suo percorso se non si sente pronto di uscire e quel percorso serve per riavvicinarsi alle famiglie per riavere piano piano un rinserimento nella società senza quel posto noi quel rinserimento non ce l'avremo mai chi ci aiuta? a noi lo Stato? a noi lo Stato non ci aiuta anzi ci dà dei calci nel sedere pardon pardon ci dà dei calci nel sedere questo ci dà e abbiamo le abbiamo scusa se la dottino un attimo finito subito e abbiamo le prove abbiamo le prove che questo posto funziona io adesso sono nella comunità di Forno una comunità terapeutica non ho avuto né problemi di droga né storie varie però è stata una comunità io ho altri problemi sono un po' vado un po' su di giri facilmente ho questo problema si vede che mi devo curare eh ma eh mi devo curare cosa ci posso fare? e e in questa comunità le persone che ci sono dentro dai volontari dagli operatori che sono anche persone comunque sia tante che hanno fatto il programma prima di noi e sono diventate col tempo operatori ma sono diventati volontari operatori stando con le persone che hanno più problemi da loro devi prendere da loro devi devi imparare non con le persone che sono non hanno problemi sono tutto bello rosa e fiori no e queste persone si spendono tutto il giorno per noi dal mattino alla sera dal mattino alla sera dal vestire al mangiare al lavoro alle famiglie i colloqui con le famiglie e tutto il resto e poi non so non mi ricordo chi ha detto che noi che non siamo ah forse la signora che non siamo pagati noi siamo pagati invece siamo pagati perché glielo spiego fumiamo mangiamo abbiamo un tetto sopra la testa se ci serve da vestire ci vestono e qualsiasi cosa abbiamo bisogno ce lo danno quindi questo per me è il contributo che ci danno a noi è uno stipendio per me perché vivo questo è l'aiuto che ci danno l'aiuto che ci danno quanti migliaia di euro gli dovrei dare io a una persona come può essere il mio operatore quante migliaia di euro gli dovrei dare al mese per l'aiuto che mi dà a me per i cambiamenti che mi ha fatto fare a me una cifra spropositata quindi forse se lo meritano che io lavoro per loro volevo fare una precisazione secondo me chi è qui non è contro il recupero ma è una questione di no non è contro il recupero nessuno poi magari mi sbaglierò ma nessuno di queste persone è contro l'aiuto è un discorso di informazione ma del suo posto di informazione sparsi 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 le semplici che dovrebbero rientrarsi se ne vediamo quindi c'è il suo posto è da là c'è il sindaco com'è quel posto l'altro sono stati solo una presentazione è una cosa di un appunto che ha fatto anche Daniele prima puntualizzare perché la Carla nasce tutto dall'informazione e la partecipazione di un territorio io ho iniziato il discorso dicendo che voi in parte non ne voglio entrare in queste cose non mi interessa in parte voi avete ragione perché giustamente se viene fatta una comunità educante per i carcerati in un paesino così giustamente deve essere informata la gente ma è giustissimo ma è questo ma è questo ma è questo però io quello che voglio far capire io mi sono messo come soggetto che sta facendo questa cosa e che ha fatto questa cosa che questa cosa adesso ci saranno stati degli sbagli ci saranno state delle cose però che la gente io parlo come lo penso io che apra gli occhi che apra gli occhi che apra gli occhi e che dia però non al 100% no basta ok hanno sbagliato non vi diamo più il posto non vi diamo più la casa non vi diamo tenete un 5% io dico di possibilità di potere da dare a queste persone che hanno bisogno questo io sto dicendo io ho fatto una proposta non mi hai seguito la struttura dove deve essere collocata non c'è niente sono andati già a chiedere del terreno in affitto per poter fare qualcosa a loro perché non c'è spazio è tutto cemento non c'è niente cosa fate 13 persone lì cosa fate da di lì devono essere trasportate sì no ma no ma tu hai fatto bene ma hai fatto bene hai fatto bene a dire il tuo pensiero è giusto così ma certo perché la mia alternativa è quella di dire li inseriamo diamo la possibilità di lavorare nel terreno imparano un mestiere e poi possono continuare lì essere messi in regola e avere un futuro lì io ti dico la verità ho lavorato per 41 anni in fabbrica quando il mio datore con un cliente americano prima di poter avere il permesso di consegnare il lavoro dall'America è arrivato un ispettore e ci ha fatto un questionario per tutti noi operai in queste domande erano 12-13 domande c'era richiedevano se le donne in stato interessante venivano licenziate se erano messe sotto pressione ti ricordi Graziella sotto pressione a livello psicologico per far sì che rimanessero a casa se c'era manovalanza minorile e poi alla fine mi dicono ci sono carcerati ho detto no ma è perché se anche ci fossero voglio dire gli insegno un mestiere dov'è il problema sai cosa mi ha risposto mi ha detto no noi l'America non lo dà il lavoro a queste condizioni perché lo Stato italiano sfrutta queste persone e noi non lo diamo hai capito è questo che io ti voglio far capire io non voglio che un immigrato venga qua e sia pagato due euro per allora per raccogliere la frutta i nostri datori qui i nostri agricoltori non li pagano così se vai giù sono pagati in questo modo hai visto come sono nelle baraccopoli io non voglio questo l'uomo deve avere la dignità perché è un uomo hai capito però bisogna fare in modo che sia giusto e che sia evidente a tutti che è una cosa fatta bene perché se lo fai di nascosto ho dei dubbi è solo questo capito ma io non ce l'ho grazie grazie sì velocemente perché sono stato citato più volte io voglio fare una proposta questa sera ho capito che il problema non è il progetto Ho capito che il problema è come è stato presentato e le modalità, l'informazione che è stata non data. Allora io faccio questa proposta, vogliamo sospendere questo progetto? Ci diamo un tempo, un mese, due mesi e dialoghiamo, ci incontriamo. Lei ad esempio faceva l'esempio del lavoro, è una cosa complessissima dentro una comunità, ci sono delle norme, delle regole, degli orari oltre i quali, lei non si immagina le norme che ci sono dentro e come noi pur non essendo pagati, abbiamo e siamo vincolati. Allora, però io dico, se il problema in questo momento è non c'è una giusta informazione, non conosciamo questo progetto, ci state, sospendiamo un mese, due mesi e dialoghiamo liberamente, mettendo da parte concetti, preconcetti e cercando di conoscerci, di capire, con un comitato, una delegazione, ma in maniera assembleare aperta, scegliamo quale modalità, diamoci dei tempi, dialoghiamo insieme e poi vediamo quel che viene fuori. Sì, buonasera a tutti, sono Paolo Rosetti di Malmissole. Io volevo proprio, se possibile, fare un passo avanti, non ce l'avete detto, non lo sapevamo, ci avete forzato, ma andiamo al nocciolo di questa opportunità o sfortuna, chiamiamola come vogliamo, abbiamo qui la possibilità di sapere la mattina queste persone cosa faranno, a che ora si alzano, a che ora mangiano, la sera, cioè, approfittiamo della presenza delle persone che la porteranno avanti in questa casa per capire di cosa stiamo parlando, perché se continuiamo a fare il castello, tu non me l'hai detto, tu lo sapevi, e così non si costruisce nulla, cioè, distruggiamo un'opportunità senza neanche andarci a fondo. Io ho delle domande di tipo proprio questa, qual è la routine? Cioè, cosa succede la mattina, a che ora si svegliano, che lavoro fanno, come si inseriscono dopo, cosa succede? Secondo me, prima di tirare le somme, prima di dire va male, è una sfortuna, queste cose dobbiamo saperle. Ma io direi, se siete d'accordo, che la signora Carla e il cognato, che sono i miei vicini di casa, lasciano parlare un po' queste persone perché sono venute qua e ascoltiamole. Allora, io non l'ho ascoltate perché c'erano il 15 marzo, però a me non era così chiaro, forse non l'ho capito io, però se è possibile io chiedo questa cosa. Salve, io sono Andrea Lucitelli, sono il responsabile della comunità terapeutica che sta a Fornò. È una comunità che quest'anno sono 30 anni che sta sul territorio e quindi oggi siamo venuti così un po' per curiosità perché io non c'ero quei tempi là, nel senso che ero da altre parti, ma si erano verificate un po' le stesse condizioni per cui l'impianto di una comunità terapeutica in un territorio ha comportato alcune problematiche, che poi però sono state affrontate da tutta la collettività assieme e quindi la comunità è poi potuta partire bene. Ad oggi la nostra comunità è molto ben inserita nel nostro territorio, è una realtà leggermente diversa da quella che oggi viene presentata, questo è vero, però ecco abbiamo le diverse attività lavorative, tra cui quelle agricole e quelle dei laboratori che ci integrano nel territorio industriale e appunto agricolo. L'attività che facciamo a livello di prevenzione coinvolge almeno una cinquantina di scuole che vanno da Forlì e arrivano fino a Santa Sofia, quindi attraverso quelli che sono gli errori degli ospiti presenti dentro cerchiamo di fare una promozione sul territorio e una promozione al benessere, cioè gli sbagli commessi cerchiamo di convertirli in possibilità di non fare errore per tutti i giovani che andiamo a incontrare. Ecco, volevo dire che è molto bello vedere una comunità così compatta nel prendere comunque una decisione. Io penso che la nostra comunità di Fornò, che va sempre dalla Papa Giovanni, che sta andando veramente bene nel territorio, è ben apprezzata, ben voluta. Con i ragazzi collaboriamo tantissimo con tutte le persone che sono all'interno del territorio, ma c'è tutto questo perché c'è il territorio che ci accoglie. C'è una comunità che non è, o comunque un centro di questo tipo, che non è accettato dalla comunità intera, non funzionerà mai, perché una comunità ha bisogno del territorio, non servono. I due volontari sono poveretti, due persone che sono lì hanno delle funzioni, ma chi fa tutto il resto dovreste essere voi. Quindi è importante che ci sia sì o no, qualunque cosa diciate va bene, però se è un sì, deve essere un sì partecipato. Se è un no, il progetto comunque non avrebbe un successo qua dentro, perché comunque, almeno questo è quello che noi vediamo sulla nostra pelle. Se Andrea, prima parlando, ha potuto dire quello che ha detto, è perché ieri, quando è stato sabato, abbiamo fatto una super mega pizzata, quanti eravamo? 120, insieme ai parrocchiani, dove lavoravamo insieme, abbiamo fatto la grigliata, la pizza, tutto quello che c'è da fare. Ma è un momento bello, di festa insieme, uno scambio, uno scambio, dove i parrocchiani proprio davano conforto, diciamo così, sostegno al resto. Ecco, ma il presupposto principale è questa assemblea che oggi c'è. Io ripeto, per me va bene, sia il sì che il no. L'importante è che la comunità di Malmissule sia veramente compatta, allora lì veramente c'è un qualcosa che può nascere. Volevo dire due cose, innanzitutto che io sarò un sognatore, così però sognerei di vivere in uno stato dove non ci dovrebbe neanche essere bisogno di tutte queste associazioni, dove vorrei che il ragazzo il suo rinserimento lo potesse fare nel carcere, ma perché in Italia i carceri non funzionano? Cioè a questo ci dobbiamo chiedere. Non possiamo concentrare tutti i nostri sforzi per fare in modo che migliorino le condizioni dentro il carcere? È anche questo qui che dobbiamo, secondo me, chiedere. Poi volevo rispondere al signor Rosetti, non so se è stato detto, ma penso di sì all'inizio. Noi siamo in attesa di fare un'ulteriore riunione in comune. L'assessore Mosconi deve organizzare questa riunione con alcuni firmatari della petizione, il comitato di quartiere, e dovrebbe illustrarci tramite, ha detto che forse inviterà la direttrice del carcere, alcuni avvocati che si occupano di questo, e ha voluto espressamente che il comitato di quartiere riuscisse a raccogliere dei quesiti della gente. Non so perché non è stato informato dal comitato di quartiere. Siccome abbiamo fatto una riunione in canonica, dove il comitato di quartiere ci ha chiesto, dovevamo raccogliere i quesiti da porre in quella riunione, ma in realtà il comitato di quartiere, non tutti per la verità, ma 3-4 di loro hanno solo tentato di convincerci della bontà del progetto, io ho presentato 19 quesiti e basta, mi sembra che avete presentato quelli all'assessore Mosconi, o ne avete aggiunti anche voi, perché nella mail che mi hai mandato c'erano i 19 che avevo presentato io. Se vuole li leggo, se ne ha degli altri li aggiungiamo, perché sarebbe utile che si sapesse di più, è anche per questo che volevamo organizzare quella mail list del quartiere, perché se qualcuno ha delle proposte è giusto che le faccia, se vuole alcune erano quelle che diceva lei. Noi volevamo sapere chi valuta i detenuti e da quali carceri o realtà vengono scelti, che tipologie di reati hanno commesso, quanta pena dovranno ancora scontare una volta assegnati al progetto, chi vigilerà su di loro, che mansioni svolgeranno durante il giorno, quindi si rialaccia quello che diceva lei, se potranno ricevere visite di familiari o altre persone durante la loro permanenza, quante volte al giorno e con che modalità gli enti preposti verranno a fare i controlli in sede, se saranno liberi di uscire sia di giorno sia di notte, perché non lo sappiamo, nessuno proprio ce l'ha detto e sono quesiti che ci sono venuti spontanei. Se tutta l'area sarà isolata e interdetta al pubblico, sapere con precisione gli eventuali contributi versati dal Ministero di Giustizia per la custodia dei detenuti, perché anche qui noi non abbiamo chiarezza, non abbiamo certezza, ma vogliamo che ce lo dicano gli enti preposti, non le associazioni, vogliamo che gli enti preposti ce lo dicano. Possibilità di visionare i bilanci economici delle associazioni preposte al progetto, perché ci siamo accorti purtroppo del discorso che dicevo all'inizio, che molte volte ci raccontano la loro versione, ma ci dobbiamo fidare ciecamente o possiamo anche vedere un po' più nello specifico. E poi, siccome è tra le cose che abbiamo valutato noi, volevamo conoscere anche l'iter del nuovo carcere di Forlì, dato che è in costruzione, ormai si sta ultimando il nuovo carcere di Forlì, dove tutti speriamo che sia una struttura all'avanguardia, dove speriamo che lì i detenuti stiano bene, che abbiano tutti i loro percorsi formativi, che abbiano tutte le strutture per seguire il loro iter di detenuti. Poi, se vuole, li rileggo tutti, per capire anche perché è stato scelto un sito così centrale in una frazione così piccola come Malmissole, perché dato che piacciono tanto le percentuali, io mi sono fatto un calcolo e ho pensato che in una realtà come Malmissole, che siamo circa 400, metterci dai 10 ai 15 detenuti, ci viene a dire circa il 3% della popolazione. E mi viene da dire che è come pensare che in centro Forlì ci vengano messi 3 mila detenuti, ma mi sembrano un po' troppi, sinceramente, però forse mi sbaglio. E poi, se non sia possibile affrontare con i volontari delle associazioni le stesse problematiche all'interno del carcere, perché si danno così talmente da fare fuori, non è possibile anche dentro, non lo so, perché io poi parlo da profano, ma non so le problematiche che ci sono, è quello che vogliamo chiedere, fra tutte le varie cose che ci è venuto da chiedere. E sapere quanto viene ad incidere sulla comunità in termini di costo, perché loro ci dicono che si risparmiano 200 Euro al giorno, che invece sembra di aver capito che non sia vero niente. Sapere invece se hanno un costo queste cose per lo Stato, un ulteriore costo oltre già a quello che hanno. E anche sapere chi avrà la responsabilità giuridica e penale in caso di un reatto commesso da un ospite della struttura. Ci sarà qualcuno che pagherà o, come sempre, ma purtroppo è successo, sapere chi ha proprio la colpa giuridica. Poi, io ho buttato giù questi quesiti, ma non so se il Comitato è andato in giro a chiedere se qualcuno ha delle altre domande da fare, io spero che l'abbia fatto, non lo so, l'avete fatto. Comunque, tornando al discorso di prima, mi dispiace, non è un attacco diretto a te Montaguti, anzi, te l'ho detto ancora, mi fai tenerezza, cioè sei giovane, hai voglia di fare e mi raccomando che ti rimanga questa voglia di fare, però vedi, anche stasera ti hanno lasciato da solo e ti devi fare delle domande. Perché? Perché il Comitato si nega così? Basta. Io volevo fare... Io voglio sapere da chi... Io credo che il sindaco, siccome non ha mai fatto l'attività di comunità, fa fatica a dare questo... Domande legittime? Io... ma, scusate... Ma questo dovrebbe sapere, no? Se il momento in cui si interessa, avere risposte alle domande che il Signore ha fatto, se interessa, siamo nelle condizioni di dare risposte, se interessa, dubito che sia interessa di qualcuno, avere delle risposte, però... Scusate, 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 io voglio fare una piccola domanda, ma tutte quelle domande che lei ha presentato, ha avuto risposta su quelle domande? No. Allora, no, dopo l'ultima riunione che abbiamo fatto in Comune il 24 aprile, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Forlì Ragazzini, con l'Assessore Mosconi, c'eravamo alcuni firmatari della petizione, c'era il Comitato di quartiere e alcuni dell'unità pastorale, abbiamo discusso un po' su questa petizione, il Presidente del Consiglio Comunale ha detto che non si poteva ignorare una petizione con così tante firme, che quindi, dato che chiedevamo la ridiscussione di tutto il progetto, avrebbe organizzato un'ulteriore riunione, un'ulteriore assemblea, soltanto con noi firmatari della petizione, il Comitato di quartiere senza questa volta l'unità pastorale e avrebbe invitato le autorità proposte, tipo la direttrice del carcere, ha detto alcuni avvocati che seguono questi percorsi della pena alternativa e loro avrebbero risposto a tutte le nostre domande. Nel frattempo il Comitato di quartiere doveva raccogliere i quesiti che forse si devono preparare le risposte, non lo so. Comunque noi abbiamo fatto una riunione dove abbiamo presentato questi quesiti e li abbiamo dati al Comitato di quartiere, che a sua volta ha fatto una mail all'Assessore Mosconi, un tipo un verbale con quello che ci siano detto e con i quesiti che abbiamo. Però io non so se hanno presentato solo i nostri di quesiti, se ne hanno anche loro o se ne hanno richiesti di altri, questo non ce l'hanno detto. Io chiedevo, a parte se era qualcun altro, perché magari mi scappa anche qualcosa con tante... Sì è vero, scusa. Buonasera a tutti. Io vi chiamo Umberto D'Angelo e sono residente di Poggio, nonché membro del quartiere, ma stasera sono in veste personale come cittadino e come interessato. Una cosa solo volevo aggiungere a livello, perché qui non c'è la figura forse preparata, un giurista. Questa situazione volevo solo aggiungere non come giurista, ma come tecnico, perché purtroppo faccio un lavoro che ha attinenza, quindi sono un poliziotto. volevo solo precisare, e come informazione, quindi nuda e cruda, così come ve la do, che questo meccanismo non è che lo decide il comitato di quartiere, Don Nino, la comunità Papa Giovanni, il ministro di Grasse... Scusa, è un meccanismo che è automatico, cioè è previsto dalla legge penitenziaria. Non vi posso dire i dettagli perché, come ho detto, sono un misero operaio della giustizia, o chiamiamola tale. Purtroppo gli strumenti che portano a queste situazioni, vogliamo chiamare incresciose, di carenza, di quello che volete, lo è la cosiddetta spendy review. Quello che diceva il signore nel 2013 costa netto 9 euro e quant'altro, oggi sarà anche qualcosa di meno o qualcosa di più. Ma il problema è questo, che comunque è un meccanismo automatico. Il detenuto che arriva a fine pena, in base alla valutazione di un magistrato, che è il magistrato di sorveglianza, viene messo ai lavori socialmente utili, viene ammesso ai detenzioni domiciliari, a un obbligo di firma, ma viene lasciato, come dice quel ragazzo lì, che ho molto apprezzato, questo ragazzo qui, che non mi ricordo come chiami, Andrea, viene messo fuori dalla porta del carcere con due borsoni, o con un borsone a seconda di come c'è entrato, a volte anche soltanto con un paio di ciabatte e una canottiera, e dice arrangiatevi, anzi arrangiatevi. Lui cosa potrà fare di fronte a una situazione del genere? Fare quello che ha imparato stando dentro il carcere, ovvero la scuola di professionalizzazione del crimine. Perché purtroppo i nostri carceri non hanno delle strutture alternative, voi non so se ci siete stati, io ci sono stato dentro il carcere, e vi posso garantire che tutte le volte che il centro mi viene l'angoscia, a me che so che dopo dieci minuti esco, quindi non immagino soltanto i miei colleghi che ci devono vivere, scusate l'emozione. Quindi questo meccanismo è un meccanismo obbligatorio, quindi quando arrivano a sei mesi, otto mesi, tre anni, non mi ricordo qual è il termine, perché proprio non è il mio campo, io faccio purtroppo il lavoro di quello che le importa dentro, mio malgrado, perché in molti casi mi rendo conto che non serve assolutamente a nulla, questi vengono rimessi fuori, così come sono entrati. Forse più cattivi, più arrabbiati, più disorientati, perché purtroppo il nostro carcere, la nostra legislazione non rieduca queste persone. Quindi mi permetto di esprimere un giudizio personale, una persona che si deve, anche perché potrebbe capitare a me, come potrebbe capitare a lui, come potrebbe capitare anche a me di andare a finire agli arresti domiciliari, perché oggi come oggi vedo che quelli che vanno a finire in galera di tutti sono quelli che fanno parte, diciamo, di determinate categorie, la mia in primis, si può dire. Quindi, dico la verità, una struttura che, fra virgolette, ti rieduchi e che ti dia la possibilità di poter dire ti do una chance, te ne do una, però te la posso dare, per me è un qualcosa di più che, come cittadini, poi dopo che siano religiosi, che siano musulmani, che siano francescani, qualsiasi altra tipologiatura, testimoni di Geva e chi piena appena emetta, che siano cittadini come gli altri, che possono essere, diciamo, aiutati a capire se hanno sbagliato e come poterli riaiutare. Questo è qua. Io chiedo scusa perché sono forse ripetitivo, snervante, però il nocciolo, nessuno ha sollevato il problema, cioè il problema, tra virgolette, anzi, la riducazione e quant'altro, è il coinvolgimento che manca, perché c'è una cittadinanza che comunque deve sapere di questi progetti, è malinformazione, ma il problema è proprio... Eh, ho capito, ma ha nascito tutto da quello, quindi... Non è diverso, il nocciolo non è... Perché non è discorso dell'educazione, è rieducazione nell'ambito della informazione. Grazie. Mi chiamo Ricci Gionata, sono di Branzolino, però sono anche membro della comunità Papa Giovanni. Vi racconto un attimo la mia storia di partecipazione dal basso, diciamo, dalla nostra esperienza che abbiamo iniziato a Borgo Sisa, qui in un paesotto vicino a casa vostra, vicino a casa mia, un paesino di 200 abitanti, dove nel 2013 è stata aperta una nostra realtà per senza fissa dimora. Noi siamo in 28, dico noi, perché fino a giugno dell'anno scorso vivevo lì, era la mia casa, non di proprietà, ma era la mia casa, perché vivevo con quei ragazzi che venivano dalla strada, e l'esperienza è nata da un incontro come questo, dall'incontro partecipativo, dove il comitato di quartiere, anzi ce ne sono due, perché Borgo Sisa è divisa tra Ravenna e Forlì, quindi c'era il comitato di quartiere di Forlì e quello di Ravenna, erano abbondanti i comitati di quartiere. Però è nato da incontri come questo, con tanti dubbi, tante preoccupazioni da parte della gente del posto, per giunta la casa che ci veniva data era in pieno paese, è piccolino, più piccolo di Malmissole, veniva data una casa in pieno paese, di proprietà del comune, e una casa con 28 persone. Dal 2013 abbiamo accolto 270 persone in quella casa, e da quei primi incontri, ne abbiamo fatti due partecipativi, siamo stati molto fortunati, perché la gente di Borgo Sisa ci ha accolto in maniera molto positiva, e non è semplice, non è scontato, è una cosa che mi ha sorpreso. Da quegli incontri abbiamo iniziato ad accogliere, abbiamo persone anche che vengono da carcere, il magistrato ce li manda in detenzione alternative, quindi con tutta una serie di restrizioni, però quelle persone che vengono a casa nostra poi sono state un po' alla volta convolte nella vita del paese. Ad agosto c'è la famosa festa di Borgo Sisa, che si viene fatta nel campo da calci, i nostri ragazzi ci lavorano, e da settembre tutti iniziano a lavorare nei campi, lì attorno, perché poi la gente che viene alla festa, conosce i ragazzi, si affeziona e inizia a andare del lavoro. E così si è creato un circolo positivo nel territorio, dove i nostri ragazzi finalmente vengono accolti, non vengono accolti solo da noi, dalla Papa Giovanni, ma vengono accolti dal paese intero. Per molti di questi, anzi, quelli che vengono da carcere, lo Stato non ci dà un centesimo, cioè zero, cioè non precipiamo niente, sono totalmente a carico nostro. Lavorano, lavorano internamente alla casa, non abbiamo dei terreni, come a Fornò, ma abbiamo un centro di lavoro con delle aziende esterne che ci danno dei lavori da fare, perché è bene che i ragazzi lavorino, perché il lavoro è altamente educativo, e così viviamo, tanto che poi a giugno dell'anno scorso il paese ha organizzato il mio matrimonio dentro la casa, quindi anche il paese ha partecipato alle mie nozze, poi dopo me ne sono tornato, insomma sono dovuto andare via da Borgo Cisa, perché mia moglie non era della comunità, e quindi abbiamo fatto un'altra strada. Sarebbe bello che la proposta di Daniele Severi si attuasse, cioè fermarsi un attimo, due o tre mesi, conoscerci meglio, magari anche voi, conoscere meglio le nostre realtà, perché mi dispiace ma siete circondati, cioè ne avete uno di fianco, abbiamo a Villa Franca, San Martino in Villa Franca, a Borgo Cisa, a Durazzano, a Durazzanino, abbiamo in realtà tutto attorno, quindi anche un confronto con gli altri comitati di quartiere potrebbe essere positivo, per capire dopo tanti anni come stanno andando avanti queste realtà che non sono solo nostre realtà ma sono condivise anche dalla gente del posto. Potete conoscere anche le problematiche che magari in tanti anni, come trent'anni di Fornò, possono essere venute fuori e magari anche meravigliarvi di realtà positive che non immaginereste neanche. Quindi io propongo, visto che si vuole fare un'azione più partecipativa dal basso, che poi anche la missione del Movimento 5 Stelle, immagino se non mi ricordo male, che magari il comitato di quartiere e il quartiere intero magari si interrogasse in maniera attiva nella creazione di una realtà o nel conoscere le nostre realtà qui attorno. Grazie. Buonasera, io sono Riccardo Bevilacqua del Movimento 5 Stelle di Forlì. Scusate la voce. Dunque, io ho ascoltato molto attentamente tutti gli interventi che devo dire tutti estremamente interessanti. Però, sul finire di questa discussione mi è sembrato che il contendere sia andato su diversi interventi che ci sono stati sulla bontà del recupero di queste persone. Ognuno ha portato la sua esperienza. Io voglio sottolineare che questa sera non era in discussione un'operatività in questo senso. Questa sera era in discussione un problema politico che il quartiere ma anche il Movimento 5 Stelle di Forlì ha vissuto nell'ambito della gestione di questa tematica. quindi io vorrei riproporre e ricondurre diciamo questo confronto su questo tema è un tema politico cioè vi è stato nascosto una scelta che piano piano avete scoperto a livello comunale quando ci siamo mossi come consiglieri che sono qui dietro a me ci sono stati dei tentativi di frenare magari queste richieste di documenti c'è stato un tentativo di non trasparenza e questo a noi non sta bene io vorrei che in questo momento venga trasmesso chiaro e forte il discorso che a nessuno piace essere preso in giro perché noi non prendiamo in giro nessuno quindi è un concetto politico che è una diciamo una norma visto che qui siamo in politica da parecchi anni è una norma condurre questo tipo di scelte perché decidono in pochi a discapito di tutti ora che cosa è successo qui a Malmisto è successa una cosa imprevista per il comune cioè un cittadino si è messo in discussione e ha creato una diciamo discussione interna a livello del quartiere e ha dato fastidio al comune perché ha dato fastidio a delle scelte precostituite preconfezionate grazie delle norme che sono state a sua volta diciamo costruite ad hoc per diciamo un afflusso di denaro che passa dallo Stato alla Chiesa poi andiamo in profondità in un'altra occasione poi c'è stato il Movimento 5 Stelle che è intervenuto e quindi questa sera doveva essere una discussione che doveva in un certo senso porre le basi per una discussione nel merito di questo problema senza discutere della bontà che nessuno mette in discussione di tutti questi esempi che avete portato cioè avete siete intervenuti come diciamo a rafforzare un concetto che condividiamo tutti quindi che senso ha questi interventi continuativi come a convincerci no non è questo il contendere quindi per favore ritorniamo sulla base di questo discorso che è politico perché dalla politica si comincia con la democrazia e con il confronto corretto tra cittadini tra istituzioni e quartieri in questo caso quindi il mio intervento voleva solo focalizzare questo aspetto grazie ok questa volta spero di riuscire a finire allora rispondendo a tutti scusa no vabbè io non avevo finito il vostro capitano mi ha un attimo vabbè in ogni caso allora no perché è un attimo frustrante tutti gli altri sono riusciti a finire dicendo ho finito il microfono io invece ho dovuto vabbè comunque toglito questo allora per quanto riguarda la partecipazione è fondamentale cioè il comitato di quartiere per fare un esempio tornando sul pratico perché se no sembrano tutte chiacchiere quei due unici ad esempio verbali che sono presenti sul sito del comune non si è parlato magari solo di feste e ce ne sono stati altri di e ce ne sono stati altri di comitati aperti al pubblico non parlanti solo di feste come quello del referendum sulle trivelle abbiamo provato a parlare anche di questo la partecipazione era stata molto più scarsa e le persone qui presenti non c'erano ad esempio nonostante la comunicazione fosse stata data quindi diciamo che c'eri? ecco per dire quindi è giusto e normale che uno partecipi a ciò che gli interessa noi ci siamo stati io ci sono da poco e scusa? che i verbali non ci si guarda io li faccio come vedi mi sto sbattendo anche stasera a fare un verbale scusa ma io li faccio allora se poi non funziona il sistema per caricarli io non posso caricarli sul web nel comune per favore non mi andate ad avvitare che non c'è il verbale su internet ok? cerchiamo di essere un po' logici quindi il problema di stasera a quanto capito è un problema politico che il comitato di quartiere non è un organo politico noi non siamo schierati non partecipiamo comunque vabbè il discorso che diceva la signora della Carla del postino del comitato di quartiere vi garantisco che è stato un caso ci sono due o tre postini tra virgolette della Caritas uno dei quali ha la sfortuna diciamo di partecipare anche al comitato di quartiere se è presentato volontario qualcuno lo ha votato come avete detto giustamente come ha detto Benini si chiama il tuo scusami ce ne sono due uno si divide quella parte l'altro è Berti anche lui alla fine è vicino al comitato di quartiere ma perché partecipa a fare la festa non significa che scusami doveva aspettare un po' in ogni caso stavo provando ad arrivare in fondo e quindi il discorso della partecipazione c'è quando ci vuole essere quindi bisogna essere partecipativi sempre e cercare di proporre nella riformulazione della nella petizione che hai fatto scrivi anche di dimetterci noi come comitato non abbiamo problemi noi siamo qui ci avete votato voi facciamo un passo indietro eventualmente noi non abbiamo problemi io sto perdendo il mio tempo tra virgolette che in realtà penso di starlo usando ma perché ho voglia di farlo perché sono pirla che sono qui a farmi capito quindi non è che ci sono sempre soltanto io allora ci siamo incontrati come coordinamento dei quartieri della zona e è stato deciso abbiamo deciso siamo esseri umani che abbiamo deciso che i comitati di quartiere non avrebbero partecipato in via formale io sono venuto perché sono curioso e interessato è malmissale sono interessato sto mettendo cosa scusami non ho capito sto scrivendo sto scrivendo faccio gli appunti ho anche i verbali di comunicazione prendo gli appunti lo faccio all'università e lo faccio qui questo porta a dire che io sono qui come comitato di quartiere secondo te secondo la signora sì io sono venuto come come Enrico Montaguti lei è venuta per il comitato di quartiere io faccio parte del comitato di quartiere sono io il comitato di quartiere no 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 io ah no no cioè il discorso il discorso è qui i punti che abbiamo raccolto noi avevamo raccolto i punti che ci è stato dato il tempo di raccogliere Mosconi aveva esigenza di fare questa riunione quanto prima quindi ci siamo incontrati non come non abbiamo fatto un verbale non abbiamo fatto un incontro di comitato aperto ci siamo incontrati con la petizione del no noi e il parroco per parlarne Domenico ci ha fornito i punti che secondo lui era giusto approfondire e sì loro si sono portati probabilmente volevano prepararsi le risposte noi non è che non abbiamo un quesito da fare i nostri quesiti noi li facciamo ok noi li abbiamo fatti come dite voi ci sono stati degli incontri in cui il comitato ha potuto parlare con queste persone ha potuto manifestare i dubbi che già il 15 marzo vi abbiamo detto è normale che ci aspettassimo che ci potesse essere del dissenso poi la diffusione di queste informazioni era giusto secondo noi che le portasse avanti l'organo l'attore la Papa Giovanni che porta avanti fisicamente il progetto cioè noi che risposte dobbiamo darvi io non è la prossima che dovremmo fare in comune voi non avete un quesito da porre i nostri quesiti non sono tanto distanti dai tuoi sono fattivamente che cosa c'ha da fare e poi ripeto e ripeto che se siamo qui solo per discutere per una mancante informazione là ancora non c'è nessuno cioè quindi alla fine della fiera non c'è una cosa molto grave scusa no no vorbottavi e volevo capire che cosa volevi dire finisci finisci dopo te lo dico ok allora dimmelo su stiamo spostando la questione da quello che è un fulcro cioè dei cittadini che si sono visti piombare un progetto senza avere un'informazione adeguata torniamo sempre sullo stesso discorso al c'è anche la proposta della petizione che le chiede no no lei c'è la sua proposta della petizione di Papa Giovanni va benissimo però io le chiedo la petizione dice una ridiscussione della fattibilità del progetto alla presenza dei residenti che dovranno in questo caso essere primamente diventati allora se voi fate informazione no no per carità volevo solo dire siete disposti poi se il quartiere gli abitanti i residenti decidono che questo cosa non sa da fare ad accettarla come se siete disposti a mettere in discussione il progetto con la comunità locale secondo me è una cosa che potete affrontare poi ve la vedete fra di voi in questo caso il movimento non c'entra niente ci vogliono certo ovviamente per fare un fosso ci vogliono due rive questo fuori da ogni dubbio assolutamente per cui passo la parola a Daniele che sì volevo precisare magari meglio questa cosa qui la domanda potrebbe essere questa lei ha fatto una proposta al comitato di quartiere noi ovviamente non entriamo nel merito sarà il comitato saranno i cittadini del quartiere Malmicele e i quartieri Limitrofi a decidere se la sua proposta può essere accettabile o meno però le volevo chiedere una precisazione lei ha fatto questa proposta di sospendere e ridiscutere la cosa lei però è disposto innanzitutto anche ad accettare un no della comunità e questa è la prima domanda se nella discussione e la seconda domanda è lei è disposta ad accettare eventualmente il comitato siete disposti anche a vedere la vostra posizione ma allora vedete che c'è degli elementi nuovi per il posto no per il posto ma l'abbiamo chiesto subito è il posto allora il problema è il posto ma non possiamo trovare un'altra scolatura circondata chiusa se era la casa di là col terreno e tutto quanto ma cerchiamo le insieme non lo so io non so ah esatto quello che stavo cercando di dire è il posto allora il problema sindicale ma non è la mancata comunicazione allora il problema è il posto cioè perché giriamo le vi chiedo di pazientare un secondo allora se il comitato cioè i cittadini del quartiere dovessero decidere di sospendere la discussione parlare eccetera voi siete disposti a ridiscutere anche il luogo dove sarà costituita questa comunità quindi eventualmente non più la canonica ma il famoso podere che era la proposta alternativa questo non l'abbiamo mica deciso è contattata una proposta alternativa dell'essere la camera che magari può rispiegare ma perché non dobbiamo sapere non sapere no non solo sapere se se il cuore si può dire la c'è già della c'è la c'è la non è il posto non c'è il lavoro tutto qui e qui cambiamo il posto tutto qui se se volete cambiamo se volete volete se Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.